oh perfetto martina se mi dai l'ok comincio un secondo mai vado allora buongiorno a tutti e benvenuti a questa diretta facebook che stiamo facendo come rifondazione comunista federazione provinciale di como molto brevemente le motivazioni di questa diretta e di questo confronto pubblico che abbiamo deciso di promuovere in sintesi le motivazioni sono queste è più che mai necessario e ce lo dice soprattutto la situazione dell'ultimo anno e mezzo è più che mai necessario per chi si occupa e crede nell'impegno sociale e politico operare in questo tempo un'operazione che è quella di connettere di rimettere in contatto le persone le realtà le idee le passioni anche che si muovono all'interno della società è più che mai necessario anche perché la pandemia ha soltanto apparentemente coperto oscurato dal punto di vista mediatico ma non ma non risolto anzi aggravato una serie di questioni che sono sotto gli occhi di tutti che sono estremamente importanti da un punto di vista politico e sociale non si è risolto anzi si è aggravato nella nostro tempo presente il conflitto sociale nel senso che le forme di le condizioni materie dei lavoratori le forme di sfruttamento si sono aggravate e si è aggravata anche all'interno dei luoghi di lavoro un un clima e poi ne sentiremo parlare anche da testimoni diretti un clima che usando una categoria magari sorpassata ma che è secondo me efficace un clima che vede soprattutto la frantumazione del corpo sociale dei lavoratori il prevalere di spinte corporative in tutti i settori e il dilagare di quella che un'altra espressione un po desueta ma secondo me efficace è la cosiddetta guerra dei poveri fra i poveri no il conflitto sociale non è più un conflitto fra classi controposti ma spesso si configura in questi termini ancora più drammatici in un periodo in cui la pandemia ha nascosto anche o ha reso apparentemente meno gravi attacchi ai diritti civili nel nostro paese ha reso se possiamo dirlo anche meno drammatica o apparentemente secondaria quella che si chiama normalmente emergenza ambientale ha reso ha nascosto i problemi che riguardano i diritti di tutte le persone i diritti alla casa alla all'accoglienza alla convivenza civile e al soddisfacimento dei bisogni elementari ha messo in discussione o meglio ha nascosto la continua messa in discussione il continuo attacco ad alcuni valori che per sintetizzarli per farmi capire rapidamente sono quelli della sanciti e applicati nella costituzione italiana per cui sempre comunque con maggiore evidenza vengono messe in discussione insieme alla costituzione anche principi basilari per la convivenza civile come ad esempio il l'antifascismo come ad esempio la bisogno di garantire alle a tutti i cittadini un minimo di condizioni economiche che rendano la loro condizione appunto di cittadini effettivamente liberi di poter migliorare la propria di vivere pienamente in sostanze i diritti democratici la cosa che stiamo facendo oggi non è un inizio ma una continuazione nel senso che noi pensiamo che ci sia assolutamente bisogno proprio per i motivi che dicevo prima proprio per la frammentazione del corpo sociale aggravata incattivita dalla pandemia che ci tiene lontani anche fisicamente noi pensiamo che sia assolutamente fondamentale e lo pensiamo come forza politica ma lo pensiamo anche come singoli cittadini sia assolutamente fondamentale fare in modo che si capiscano alcune cose la prima è che dalla pandemia non si esce in solitudine non si esce con la pretesa di salvarsi ad anno di altri spuntando in maniera opportunistica soluzioni approfittando soluzioni migliori quindi la solidarietà e la consapevolezza del bene comune devono essere alla guida di tutte le azioni di tutti i provvedimenti che si auspicano e che si praticano soprattutto e soprattutto non si esce dalla pandemia tornando a prima perché come accennavo all'inizio possiamo dire che la normalità che è stata messa in crisi dalla pandemia era già di per sé un problema nel senso che come accennavo prima dal punto di vista dei diritti civili dal punto di vista della giustizia sociale ed economica dal punto di vista della regressione culturale e morale del nostro paese eravamo già non sulla buona strada ma su una pessima strada che la pandemia semplicemente ha accentuato e allora la soluzione che noi pensiamo non è una soluzione ma è una pratica che ci sembra indispensabile quella di mettere a confronto nel modo più completo possibile significativo possibile tutte quelle realtà che siano associazioni strutturate che siano associazioni di volontariato che siano singoli cittadini che siano organizzazioni sindacali che semplicemente ci sembra abbiano da proporre e soprattutto da mettere in connessione le loro rispettive esperienze e qui uso per chiudere un'espressione magari un po' presuntuosa se non c'è questa presunzione non si va da nessuna parte secondo me è un modo noi pensiamo di mettere in campo una nuova modalità di pratica politica una pratica politica che non è più eh finalizzata al mettere insieme quelli che potrebbero finire in una lista facciamo queste cose nel pieno dell'estate relativamente lontani eh da scadenze elettorali e soprattutto senza mai evocarle queste scadenze elettorali proprio perché siamo qui faccio un piccolo inciso noi per primi delusi amareggiati e insoddisfatti dagli incontri che si fanno a ridosso delle scadenze elettorali per mettere insieme in qualche modo persone che la pensano in qualche maniera noi facciamo questa cosa distanti da qualunque eh preoccupazione elettorale immediata ma con lo scopo di e la presunzione di proporre un nuovo modo di fare politica che eh raggiunga due risultati che ho accennato prima cioè ascoltare chi su aspetti diversi si occupa della cosa pubblica della polis e quindi fa politica anche se ehm in qualche caso non fra i presenti ovviamente ma capita spesso di dover spiegare a persone che fanno politica senza saperlo che stanno facendo politica perché si sentono ehm neutrali in quanto non schierati apertamente ma ehm e la seconda cosa che è assolutamente importante è che mettendo in connessione ehm le singole esperienze si riafferma quel principio che eh affermavo prima cioè che non si esce da soli che non si esce perseguendo un singolo e specifico obiettivo e soprattutto che eh la solidarietà la comunanza la la vicinanza fra eh persone che comunque hanno un'intenzione di migliorare di rendere migliore appunto la eh la società in cui viviamo di rendere migliori le relazioni umane di rendere migliori le condizioni materiali eh è indispensabile che tutte queste persone almeno si confrontino e sappiano una dell'altra eh le forze sappiano una dell'altra le associazioni le campagne eh si mettano in comunicazione noi abbiamo questa questa presunzione rinnovare la politica rimettendo in connessione e in discussione eh temi che altrimenti finiscono per essere diciamo così eh riservati a piccoli gruppi. Finisco dicendo che oggi su questo schermo eh vedete tutti una eh un esempio di quello che stavo dicendo prima abbiamo messo metteremo a confronto esperienze che vanno eh in direzioni molto diversi da chi fa pratiche ambientaliste a chi fa eh lavoro sindacale da chi fa un lavoro di accoglienza a chi fa lo studente piuttosto che il lavoratore eh in cooperative del terzo settore è ehm come accennavo proprio all'inizio e qui chiudo un tentativo ehm molto parziale ma bisogna partire da qualche parte no bisogna per forza eh avere il coraggio di di fare il primo passo nel senso che eh mancano ad esempio e qui faccio delle giustificazioni mancano ad esempio e ci sarebbero tutti essere se non avessero avuto problemi di tipo personale e professionale manca ad esempio un riferimento eh e ci sarà sarà probabilmente in ascolto o ci farà avere magari qualche messaggio mancano riferimenti al tutto quel settore di di lavoro che è il lavoro della sanità eh le persone che potevano intervenire oggi non ce l'hanno materialmente fatta eh mancano ehm persone che sono eh più dentro al lavoro eh nei singoli settori e sono proprio lavoratori eh di 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 categorie eh industriali del commercio e mancano eh diciamo così mh per fortuna non siamo solo noi quelli a cui avevamo pensato non sono solo i presenti quelli a cui avevamo pensato eh la proposta che faccio già qui così chiudo e anticipo una proposta che farò alla fine è quello che se voi siete dell'idea un confronto periodico e uno scambio reciproco di informazioni di pareri sul presente sul che fare adesso noi pensiamo di istituirlo in maniera stabile e di vederci con cadenza mensile o stagionale poi decideremo ma di mantenere questa questa rete di collegamenti perché senza appunto questa connessione fra fra esperienze pratiche positive non si va da nessuna parte in sostanza detto questo eh sono già andato oltre come al solito eh io darei la parola secondo la scaletta a Fabio Cani eh che qui nella veste soprattutto di rappresentante di quella di quella rete eh che si chiama Como Senza Frontiere che ha avuto un ruolo a un ruolo fondamentale nel nell'affrontare nel proporre soluzioni e nell'immaginare scenari futuri eh lo dicevamo la parola stessa pensare ad una città quella di Como un territorio come quello Comasco che davvero elimini eh la barriera del confine eh la barriera dell'esclusione la barriera della discriminazione nei confronti di chi eh ha avuto disavventure che lo hanno portato a ad essere qui eh qui da noi quindi do la parola a Fabio per il suo contributo eh che sarà un piacere ascoltare prego Fabio va bene sul fatto che sarà un piacere si potrebbe discutere eh spero non lo so eh allora eh ringrazio per il suo contributo dell'invito eh metto avanti subito una serie di difficoltà la prima difficoltà è che eh intervenire per primo ex abrupto come si usa come si usava a dire eh è particolarmente difficile allora eh anche perché credo che eh il tema così almeno come l'ha introdotto Pierluigi non sia esattamente quello di eh come dire dare delle indicazioni molto puntuali molto come dire immediatamente spendibili ma sia quello di provare a delineare un quadro complessivo eh che è secondo me esattamente il problema da qualsiasi punto di vista si affronti la situazione attuale eh questa è la ragione per cui eh la prendo un po' alla larga eh ma poi arrivo anche al all'aspetto più eh più direttamente eh riferibile alla come dire alla pratica politica di Como Senza Frontiere che come ha detto giustamente Pierluigi è una rete non è un'associazione quindi ha eh un compito diciamo così si è posta un obiettivo che è un obiettivo ovviamente di carattere generale è un obiettivo come dire se mi passate la battuta di frontiera cioè si colloca proprio a cavallo di molte cose e eh riassume o forse in maniera più precisa si dovrebbe dire sussume eh tutta una serie di cose che fanno le singole associazioni le singole realtà che eh partecipano alla rete non necessariamente eh ciascuno di noi ciascuno ciascuna di noi fa tutto anzi posto che questa cosa è impossibile significa che ciascuno ciascuna di noi ha degli eh come dire degli interessi che che si pone come priorità allora questo eh è un punto di osservazione che a me sembra eh che particolarmente eh interessante perché appunto si colloca l'incrocio di tante di tante situazioni diverse non è specialistico in senso stretto e da questo e da questo punto di osservazione diciamo così eh noi io in particolare visto che in questo momento sto parlando io e non ho né eh la presunzione e neanche il compito di eh parlare a nome di tutti sono sì il portavo uno dei due portavoci di Como Senza Frontiere ma a parte che manca la mia metà e cioè Anna Maria Francescato eh il portavoce non è esattamente il segretario politico cioè una cosa un po' diversa quindi non parlo a nome di nessuno in questo momento se non eh se non a nome mio personale e semmai appunto cerco di interpretare una serie di eh di cose che abbiamo imparato o che forse semplicemente crediamo di aver imparato. Allora partendo da questo punto di osservazione una delle cose che mi sento di dire eh come uno dei problemi grossi di questa fase che è quella eh che deriva sicuramente dalla dalla situazione drammatica derivata dalla pandemia è quella che io vedo davvero un grossissimo problema di eh messa in comune delle esperienze. Io credo che eh questa situazione eh eh della pandemia con tutto quello che eh in generale e nel particolare ha comportato abbia provocato un aumento esponenziale dell'autoreferenzialità. Ciascuno ciascuna di noi si è chiuso in se stesso, si è davvero chiuso in se stesso, le forze politiche ci sono ancora di più chiuse in si stesse eh in una specie di fortino eh che assomiglia sempre di più al al deserto, a quello del deserto dei Tartari, cioè chiusi dentro con fuori un vuoto sociale eh incapaci di uscire, incapaci di guardare. E l'esito finale di questa cosa è questo eh l'esito non essenziale, ma uno degli esiti più come dire eh compromettenti, se mi passate questo termine poco politico, è proprio quello del eh dell'aver assunto alla fine eh una eh un atteggiamento che è quello del chi non è con me contro di me. questa cosa io l'ho sentita fortissima anche a livello personale da cane sciolto per scelta da sempre quindi di non appartenere a a nulla e alla fine in questa fase davvero eh mi sono sentito molto spesso eh ai margini eh in questo meccanismo secondo me eh molto 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 delettivo e che ha messo in discussione anche molte dei molti dei ragionamenti che che avevamo cercato di fare. Eravamo siamo arrivati alla crisi della pandemia eh con tutta una serie di discorsi aperti. Questi discorsi aperti si sono sgretolati a mio modesto avviso. Eh la mia versione non è particolarmente ottimista. Io non concordo con quello che ha appena detto eh Pierluigi e cioè che da questa fase drammatica si esce solo eh con la solidarietà senza tornare alla situazione di prima senza tornare alla normalità precedente perché i fatti dimostrano che stiamo esattamente facendo questo cioè tornando a prima senza fare nessun passo in avanti anzi secondo me facendone parecchi indietro eh e senza eh proprio come corpo sociale in generale certo poi ci sono le eccezioni illuminate per carità eh ma senza la capacità davvero di guardare di vedere che cosa eh realmente sta succedendo e cioè una regressione eh molto forte che è una regressione sociale è una regressione politica e prendetela con tutte le pinze del caso perché poi ogni tanto uno esagera nel dire queste cose io eh sarei disposto anche a mettere lì una regressione antropologica cioè stiamo davvero peggiorando come persone ehm questo si vede secondo me ehm anche eh guardando più da vicino quello che è il tema eh diciamo così di elezione eh del della rete come senza frontiere di cui appunto eh faccio parte eh allora il l'obiettivo il compito l'obiettivo la base eh costitutiva della eh della rete e è sempre stata riassunta eh nel sforzo di cambiare la percezione del fenomeno delle migrazioni cioè eh non si può eh come dire migliorare la situazione riguardo al al fenomeno delle migrazioni senza un cambio radicale di prospettiva e un cambio radicale di cultura questo era il nostro ambiziosissimo impegno eh si può discutere se siamo stati capaci di praticarlo se avevamo qualche possibilità di di successo eccetera eccetera ma credo che eh a distanza di cinque anni dal momento in cui eh la la rete si è formata giusto eh il prossimo mese a luglio festeggiamo diciamo così eh il celebriamo non so trovate voi il verbo giusto il il quinto compleanno di non tanto della rete quanto della nostra marcia che abbiamo fatto per la prima volta all'inizio di luglio del 1900 scusate del 2016 ho dicendo del 1996 stavo dando qualche anno in più del 2016 eh proprio all'inizio della famosa crisi eh della della stazione quello che è quello che è passata come l'emergenza della stazione allora eh a distanza di cinque anni eh qual è il il giudizio che 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 mi sento di dare che sicuramente l'impegno dovrebbe crescere cioè eh proprio quello che è stato difficilissimo e che risulta è sempre più difficile eh anche anche nei confronti di eh gli orizzonti diciamo così politici vicino vicini a noi è proprio quello del cambiare eh cambiare la percezione eh cambiare l'atteggiamento cambiare la considerazione di eh eh generale eh non uso volutamente il termine che eh oggi è tornato molto di moda e a cui io stesso l'ho molto affezionato cioè il termine paradigma perché paradigma è diventata una di quelle parole magiche che uno usa eh per cercare di eh eh aggirare i problemi allora qui si tratta cioè la farei molto più semplice e direi che eh c'è un grandissimo bisogno di cambiare cultura e eh un bassissimo interesse a farlo anche nei confronti eh anche appunto da parte di chi in questa cosa dovrebbe essere più coinvolto. Eh cosa intendo dire? Intendo dire che eh la da da un cambio di percezione di cultura deriva evidentemente eh affrontare il problema delle migrazioni anche a livello locale anche a livello eh di di un territorio come il nostro che è evidentemente un territorio di frontiera eh anche se non ne ha assolutamente coscienza non ne ha assolutamente consapevolezza eh siamo convinti di essere su un altro pianeta evidentemente anche ne proprio nella vita quotidiana eh e questo eh è uno dei grandi problemi che non siamo riusciti a scaffire. Lo dico in maniera secca. Non siamo riusciti a scaffire. Allora eh con questo atteggiamento si dovrebbe impostare in maniera diversa eh le singole questioni che sono le questioni dell'accoglienza, che sono le questioni della contaminazione culturale, che sono per dirla in una fra in una in una locuzione che riassume tutto in maniera precisa l'affermazione dei diritti. Allora magari in questi mesi, in questi anni siamo riusciti ad affrontare qualche singolo problema. Eh per esempio nelle ultime negli ultimi mesi eh per fortuna lo dico eh il il numero delle persone abbandonate a se stesse sotto i portici in mezzo alle strade della città di Como si sono effettivamente per fortuna ridotte. Ma questo non ha coinciso con l'affermazione di un diritto. Questo è stato parzialmente risolto con delle eh come dire opzioni tecniche che non si sono tradotte in in eh affermazione di diritti. Diritti peraltro come usano dire appunto i tecnici politici già giuridificati. Cioè non è che c'è un diritto da sancire in qualche modo. I diritti sono già sanciti a tutti i livelli eh nazionale, europeo, eh mondiale. Non è questo il problema. Il problema è quello dell'affermazione di questi diritti. Allora dare un posto in un dormitorio che è come dire il minimo sindacale mi scuserà eh Umberto se usa questa eh formula un po' un po' abusata. Eh certo che va dato ma non basta, non deve bastare. Allora eh viceversa se siamo se si è riusciti nessuno ha il diritto di come dire intestarsi questa cosa quindi preferisco usare l'impersonale. Se si è riusciti a fare dei piccoli passi in avanti su queste cose eh lo si è fatto senza eh riconoscere l'urgenza del discorso politico, l'urgenza dell'affermazione dei diritti. E questo secondo me è una sconfitta storica eh per per quello che riguarda la nostra comunità si intende poi per carità comunale mica l'ombrico del mondo eh quindi spero che da altre parti eh funzioni eh funzioni possa funzionare meglio ma questa cosa davvero eh io ho anche un po' colto in questi anni la ehm la difficoltà addirittura di far passare questo questo discorso questa consapevolezza all'interno eh addirittura delle persone che sono sinceramente coinvolte. laddove appunto c'è una eh adesso non vorrei usare una parola antipatica che poi mi faccio più 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 nemici di quanti ne abbia già eh ma insomma eh una contrapposizione un po' pretestuosa tra il saper fare il tirarsi su le le mani le maniche e e darsi da fare e il discutere di questa cosa è una dinamica che per esempio all'interno della della rete come Senza Frontiere c'è molto eh che cosa poi significa esattamente il fare eh potrebbe eh aprire una un'amplissima eh discussione. Allora io non voglio dire che che si debba affrontare ovviamente non posso dire eh che l'obiettivo è quello di affrontare le cose solo in termini di affermazioni generali in termini di eh culture eccetera eccetera che poi appunto le cose bisogna farle. Eh ma credo che le due cose non possono essere disgiunte. Ehm e questo poi eh se vogliamo fare l'elenco delle cose che su questa tematica ci sono da fare l'elenco è lunghissimo eh come ha parzialmente risolto il problema del della gente che dormiva per strada ma non si è data l'obiettivo di avere delle strutture stabili di questo tipo. Ogni stagione si ricomincia da capo. Tutti gli anni c'è un'emergenza freddo perché con notoriamente l'inverno viene avanvera quando quando vuole lui non non che ci sono delle stagioni. Poi è vero che le stagioni non sono più quelle di una volta eccetera eccetera. Allora però la stupidità di questa cosa è evidente. come non ha nessuna struttura di tipo socioassistenziale dedicate eh dedicata a questo tipo di fragilità sociale. Siano essi le persone senza fissa dimoro le persone migranti. Eh l'importante sostanzialmente era dargli un tetto eh per la notte ma il fatto che poi questa gente non abbia nessuna possibilità di fare alcunché eh è del tutto in essenziale. Eh come non si è minimamente preoccupata eh ovviamente sto parlando in generale come come usando l'idea della comunità nel suo complesso certo che ci siamo preoccupati. Per esempio del fatto che la sanatoria lanciata in maniera insufficiente, decente, tardiva eccetera 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 l'anno scorso eh dal governo sia stata di fatto svuotata nei nei fatti da da dalla dalle procedure. A Como ancora siamo intorno al cinque, sei, sette per cento di domande di sanatoria non ammesse ma neanche discusse. Non siamo intorno a questa risibile percentuale dopo un anno, un anno esatto eh di 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 pratiche eh come dire analizzate eh di convocazioni fatte in prefettura. Eh si noti che ha una prima domanda di eh chiarimenti diciamo così insomma di eh a una risposta sui fatti eh che come rete ma anche con sindacato CGL, CISWIL, con le ACLI e con l'osservatorio giuridico per i diritti dei migranti. Abbiamo fatto la prefettura dopo due mesi non è ancora arrivata nessuna 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 risposta. Nessuna risposta. Ne neanche come dire di 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 chiarimenti proprio tecnici. Uno poteva anche rispondere ma abbiamo delle difficoltà eccetera eccetera. No, non siamo neanche a questo. Adesso abbiamo deciso proprio all'ultima riunione di ripetere questa domanda, queste domande in maniera un po' un po' un po' più come dire eh arrabbiata, non servirà immagino a nulla. Allora eh queste ovviamente eh a seguire e a salire nell'ordine della complessità delle cose non c'è nel nostro territorio nessuna ehm nessun progetto di ehm accoglimento della domanda per esempio di abitazioni che è una delle da parte di queste categorie più fragili di persone perché questo tra l'altro è uno dei degli elementi che eh costituiscono sempre eh uno degli ostacoli fondamentali per tutte le eh per tutte le domande di sanatoria, di riconoscimento eccetera eccetera. Anche in quest'ultima eh l'ostacolo fondamentale era che si chiedeva un 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 adesso non so la l'edizione tecnica esatta ma insomma uno doveva avere un domicilio certo tra virgolette e questa cosa è un problema fondamentale perché questa gente non ce l'ha non ce lo può avere. La stessa cosa vale per un progetto generale di eh integrazione diciamo così culturale scolastica non questa cosa non può e non deve essere delegata al volontariato delle scuole di italiano che eh per stranieri che stanno facendo in generale un lavoro straordinario ma lo stanno facendo spesso anche come dire eh al di là di eh competenze tecnico didattiche acquisite perché lì ci si mette in gioco eh come dire proprio sulla base di 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 scelte eh molto personali e di e di desideri anche molto forti. Eh si intende che eh tutto questo che si fa in forma di volontariato di iniziativa e e metto dentro davvero tutti dalla a Caritas a alle scuole di italiano eh e e a tutte le le forme però eh poi fa fatica eh a integrarsi ehm io ripeto sempre eh l'esperienza secondo me davvero eh molto appagante anche che abbiamo fatto a farebbe eh con la scuola popolare di cittadinanza in cui eh appunto c'era eh l'obiettivo di crescere insieme eh dove eh tanto le persone proveniente da altri da altre nazioni da altri contenenti quanto i cosiddetti le cosiddette persone native noi essenzialmente eh si incontravano a pari e devo dire che alcuni di questi incontri poi ovviamente travolti dal blocco della pandemia eccetera eccetera abbiamo ricominciato la settimana scorsa con un incontro sulla questione delle vaccinazioni un po' diverso un po' strano e insomma bisogna ancora rifletterci su come andare avanti però ecco quella lì era un'esperienza è stata e spero che sarà di nuovo un'esperienza centrale fondamentale proprio dal punto di vista della eh della pratica politica eh anche secondo quello che diceva Pierluigi prima eh però non ci si può nascondere che quella è stata una specie di isola nella corrente cioè eh difficile davvero condividerla difficile eh difficile entrare in relazioni con tutta un'altra serie di cose eh finisco perché non so quanto tempo avevo ma sicuramente non troppo eh finisco per dire che lo hai lo hai raddoppiato il tempo di disposizione ecco ma ne avvi di facoltà perché appunto chi rompe il ghiaccio ha questo piccolo privilegio grazie in questo momento nessuno però me l'ha detto che questo i prossimi al prossimo lo dirò allora dirò eh dirò solo quest'ultima frase tra le vittime della pandemia io metto al primo posto l'impegno culturale che è stato letteralmente travolto proprio segato nell'indifferenza generale nell'indifferenza anche anche delle persone direttamente coinvolte eh qualcuno si è considerato in vacanza per un anno e mezzo eh poi tutti ovviamente abbiamo protestato piante eccetera eccetera ma di fatto eh una strategia dal basso per uscire da questa situazione eh nessuno l'ha ancora messa in discussione insomma insomma messa sul tavolo come tema allora tutte queste cose mi fanno dire che il lavoro è enorme eh che va fatto davvero eh a prescindere dalla dalla singola collocazione di ciascuno e ciascuna di noi che invece serve davvero una relazione molto stretta una relazione molto aperta una capacità di eh condividere eh tutta questa cosa scusate appunto se non sapendo ho raddoppiato il tempo grazie grazie Fabio eh adesso do la parola a Paolo Igalli che eh visto il suo settore professionale con i tempi è espertissima e le impongo a questo punto eh una durata no scherzi a parte stiamo nel nei dieci quindici minuti al massimo se ce la fate anche meno l'importante è che poi ci sia lo spazio per tutti di di esprimersi prima che venga troppo tardi ecco a te la parola Paoli grazie assolutamente grazie buongiorno a tutti a tutti è andato via il microfono Paoli aspetta aspetta ci sono mi tolgo io che magari ribuongiorno a tutti a tutte mi sono preparato un intervento super slim andrò andrò brevissima allora ehm mi ero preparata in realtà un brevissimo riassunto sulla situazione lavoratori lavoratrici dello spettacolo eh diciamo nel macro e nel micro quindi macro a livello nazionale e micro poi addentrandoci un po' sulla situazione comasca per poi insomma prendere l'argomento un po' più alla larga e parlare appunto di unione alla lotta comunione di intenti fare gruppo e quant'altro vi faccio un breve brevissimo riassunto allora la situazione attuale a livello nazionale è questa che ehm insomma il settore lavoratori settore cultura spettacolo ma anche vabbè di una regolamentazione che tenga conto della del carattere atipico specifico molto particolare del lavoro ehm è un lavoro che da sempre è considerato precario ehm siamo abituati ormai avvezzi a questo il timore è quello che insomma si stia utilizzando un po' il settore cultura spettacolo come banco di prova un po' come cavia per sperimentare appunto una una prova di precariato da estendere poi esportare e replicare in altri ambiti lavorativi ehm in questo anno eh che per la per la prima volta al contrario di quello che diceva prima eh Fabio eh rispetto ehm alla mancanza di aggregazione insomma la pandemia ha invece disgregato per quanto riguarda il nostro settore invece abbiamo assistito a un convergere di tutti i lavoratori eh una sorta di livella per dirla alla maniera di Totò eh perché ci siamo ritrovati un po' tutti nella stessa condizione e per la prima volta davvero eh ci si è ritrovati un po' a dialogare per capire come appunto come non tornare a quella normalità eh che non non funzionava e che non andava bene e come agire come come gruppo come insieme portare insomma delle istanze delle istanze comuni ehm ci siamo un po' trovati tutti per la prima volta davvero eh sulla stessa barca esclusi ovviamente eh i grandi teatri, gli enti, fondazioni, liriche e quant'altro. Eh per cui il soprattutto il coordinamento spettacolo Lombardia che io ho seguito anche nell'occupazione del piccolo che è stato il culmine insomma di tutto un anno di eh di lavoro, di di incontri, di ascolto e di confronto appunto il coordinamento spettacolo ha lavorato in tutti questi mesi per mettere appunto una proposta di riforma dell'intero settore eh quindi una cosa sicuramente ambiziosa e lungimirante tenendo conto della specificità di ogni eh di ogni singola attività c'è il comparto artistico c'è quello tecnico insomma ci sono un sacco di eh maestranze, lavori anche molto diversi, molto particolari, molto specifici che si fa fatica un po' a far rientrare sotto un'unica regolamentazione. ehm appunto fuori da questo discorso sono rimasti un po' i grandi centri di produzione, i grandi teatri che già percepiscono il FUS per cui in questo anno tutto sommato hanno tirato a campare, la maggior parte insomma erano singole compagnie, singoli lavoratori. Eh nella proposta di riforma avanzata dal coordinamento spettacolo Lombardia poi condivisa anche da altri coordinamenti regionali eh si parlava di responsabilità occupazionale quindi chiamando in causa poi i committenti d'attori di lavoro per appunto dialogare insieme sui diritti e le tutele. Si parlava di assunzione diretta perché quello che sta un po' accadendo negli ultimi anni eh e speriamo di di arrestare questa avanzata stanno cercando di incentivare quasi obbligare diciamo alla libera professione quindi all'apertura di partite IVA e la creazione di questo sportello virtuale perché noi come lavoratori dello spettacolo eh non rientriamo nella nella gestione INPS ma siamo ancora EX EMPALS INPS è tutta una eh una cosa un po' a parte ancora siamo un po' in un in un limbo e spesso e volentieri ci troviamo a eh a dover lavorare non solo con i teatri che o bene o male le regole tendenzialmente le rispettano ma anche con eh piccole istituzioni, scuole, biblioteche, comuni che non hanno la più pallida idea di come gestire eh contratti, lavoro e quant'altro. Questo sportello virtuale potrebbe essere un modo molto snello per consentire a tutti di insomma di mettere in regole i lavoratori di volta in volta, di non di non obbligarli a fatturare, di far quindi salire anche i vari i vari contributi per lavoro, insomma far sì che il lavoro non sia più ha chiamato intermittente ma che venga definito come come discontinuo e con committenti che variano di giorno in giorno. Questa erano questi erano i buoni propositi, quelli di insomma di portare alla luce questa questa difficoltà del settore e di far sì che soprattutto i ministeri della cultura e del lavoro ascoltassero diciamo il la base no? Eh invece vabbè negli ultimi mesi sono stati istituiti dei dei tavoli di lavoro che io scusate che però scusate un attimo che placco il cane intanto saluto Marco Rigamonti che è arrivato e si è collegato e anche Ernesto ehm che si è ricollegato prima di dare la parola a Paui dico ai nuovi arrivati che siamo come al solito un attimino lunghi come tempi per cui rispetto ai ai tempi che avevamo concordato siamo fuori di mezz'ora scusa Marco poi in privato mi insulterai come sai fare. Prego Paui finisci. Riparto vado brevissima questo cappello introduttivo per dire che poi appunto eh le istanze dei lavoratori quindi quelle arrivate dal basso non sono state molto ascoltate sono stati istituiti dei tavoli di lavoro eh ai quali i lavoratori avevano chiesto in qualche modo di poter partecipare questo non è non è stato possibile per cui diciamo eh cultura a livello ministeriale cultura e lavoro continuano un po' a lavorare autonomamente senza avere un po' il polso della situazione nel senso che un po' la sensazione è quello che manchi eh completamente una una conoscenza una consapevolezza del funzionamento della macchina culturale eh quindi per quanto riguarda cultura e spettacolo questo molto molto semplificato a livello a livello nazionale eh nel micro quindi nella realtà comasca io tra l'altro sono comasca d'adozione sono come da cinque anni sono una super new entry eh però insomma mi sono accorta un po' da subito che anche nel a maggior ragione anzi forse nella nella provincia mh poi si riflettono tutte queste cattive pratiche che vediamo anche su larga scala eh e ancora di più il problema è che qui manca una progettualità a lungo termine non c'è intenzione di lavorare per mettere le basi per lasciare qualcosa in eredità eh quello che ho notato io che le amministrazioni spesso agiscono per arrivare a fine mandato per fare insomma qualche maxi evento contenitore che possa avere un minimo una eco mediatica se non altro a livello locale senza poi tener conto senza avere anche qui minima consapevolezza delle eh delle tutele dei diritti dei dei lavoratori dello spettacolo tutto il comparto cultura spettacolo ehm altra insomma adesso cerco di fare un copia e incolla tra le varie cose che mi ero che mi ero segnata ehm qui nel piccolo eh nello specifico città di Como che io percepisco anche come molto molto chiusa in se stessa ovviamente come in tutti per tutti i settori vale molto la regola del della conoscenza quindi c'è una sorta di monopolio i soliti noti che eh che lavorano che sono un po' radicati e inseriti ehm che tra l'altro lavorano anche secondo me eh sottostimando anzi facendo un po' eh calare diciamo il il mercato del del lavoro quindi abbassando sempre di più i cachet gli onorari che dovrebbero essere richiesti e questo fa sì che poi molti questo spesso viene fatto anche da non professionisti amatoriali e quindi molti professionisti anziché scendere dico io scendere in piazza ma anche solo alzare un po' la voce rispetto a questo preferiscono uscirsene da dalle quattro dalla città murata diciamo ehm il gioco è un po' è un po' questo una una sorta di mancanza di di coraggio di prendere parola e di di farsi un po' valere perché un po' mh spesso sento dire dai colleghi vabbè ma se io mi oppongo e dico di no tanto dietro di me c'è la fila ce ne sono altri mille che sono disposti a fare eh a fare il lavoro che non voglio fare io e quindi piuttosto che visto che ho famiglia a casa da mantenere accetto a testa bassa e vado avanti così ehm da qui anche la la difficoltà e qui entro un po' nel vivo dell'argomento di questo di questo incontro di fare rete di fare gruppo ehm per portare insomma a conoscenza le proprie ehm le proprie istanze proprie rivendicazioni perché io percepisco una sorta di di paura di di guassare i rapporti quindi questo vince su sul bisogno di chiedere tutte le diritti e dignità eh dal punto di vista dal punto di vista lavorativo ehm ripeto l'impressione che Como sia una città chiusa quindi ferma non in evoluzione non in ascolto non proietta Como provincia come quasi tutte le realtà provinciali io credo non proiettata all'esterno anche solo come mh per per immagazzinare stimoli di crescita a una città non accogliente e questo in 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 vari per vari per vari aspetti e mi sembra che viga un po' la mentalità del arrecchiamo meno disturbo possibile quindi un po' eh l'impressione quella di un luogo destinato nella migliore dell'ipotesi all'immobilità dove un po' le acque sarà anche a causa della sua morfologia ma le acque un po' rimangono paludose eh un po' un po' stagnanti ehm rispetto al discorso che ci stiamo facendo noi oggi mh sono d'accordissimo quando si dice che bisogna un po' come un puzzle ricomporre i pezzi eh questa eh la continua frammentazione anche all'interno di gruppi di persone che sostanzialmente dovrebbero se non altro essere accomunati da uno stesso motivo di di lotta è il male da sempre ehm parlo a livello non so di lotta sindacale quindi contro il precariato ma rispetto un po' a tutto è come se ancora eh fossimo assoggettati un po' alla alla tattica del dividi e timpera che non è solo dal punto di vista eh ideologico quindi è mettere costantemente uno contro l'altro ma ogni tanto ho l'impressione che sia anche dal punto di vista fisico no come proprio allontanare fisicamente le persone sicuramente questo anno di pandemia non ha aiutato le persone a ritrovarsi a confrontarsi ad ascoltarsi e mh impedire il confronto i momenti di dialogo fa sì che ci sia totale mancanza di conoscenza reciproca e quindi torna il tema come diceva Fabio anche un po' della della solitudine cioè si ha sempre l'impressione di essere da soli ognuno porta avanti la sua battaglia come se solo quella ci riguardasse mentre forse bisognerebbe fare provare a fare non saprei come un discorso più più ampio responsabile cioè che le persone si sentano eh un po' sempre responsabili per per tutti questo può avvenire appunto solo se se si dialoga se ci si ascolta se ci si se ci si conosce ehm provando un po' a capire che l'acquisizione dei diritti ehm in più ambiti per tutti fanno sì che la società che la società viva in uno stato di di benessere e dal quale poi deriva anche il nostro ehm noi per esempio su su come abbiamo provato ad aggregarci formando più più gruppi fare delle iniziative anche di piazza anche coinvolgere gli studenti di priorità alla scuola nelle nostre iniziative perché poi veramente le istanze sono comuni quando non so se tu per Luigi stesso durante l'intervento al nostro presidio quando c'era il focus istruzione ma non so se tu o Maria Teresa avevate parlato di diritti cioè l'idea è veramente quella che tutti si combatta per i diritti di tutti eh per farlo me ne sono resa conto io in quest'anno dove ho avuto veramente il tempo un po' di immergermi anche nelle vite degli altri in qualche modo è che ci sia la necessità di di parlarsi di dialogare e di scoprire veramente che che il benessere degli altri più ampio a livello della società poi inevitabilmente si riflette anche sul nostro in qualche modo e basta insomma adesso la situazione lavoratori spettacolo non è delle più rose nel senso che si è ripresa l'attività e c'è stato un momento magico di sparizione per cui un po' un po' di di delusione perché si ha un po' appunto l'impressione che se la lotta non viene condivisa da chi se non altro in prima persona è coinvolto come si possono tentare di di portare altre persone speriamo che insomma sia stato dettato il momento sia semplicemente quello di della disperazione della corsa al lavoro dopo un anno e mezzo di fermo e che magari con settembre invece quando si si ristabilisce un po' un equilibrio si possa ritornare un po' un po' a parlare tutti insieme c'è proprio questa questa necessità di di riscoprirsi di di confrontarsi di dialogare di di partecipare ecco di partecipare non solo quando abbiamo un un tornaconto immediato personale ma anche noi un po' quando punto il dito io personalmente contro le istituzioni che non sono lungimiranti penso che anche noi dobbiamo dobbiamo invece esserlo cioè mettere dei dei mattoncini ogni volta anche se immaginando che il percorso sarà sarà lunghissimo e che richiede tempo energia ma mi viene da dire che che quante più persone vogliono condividere questo percorso insomma tanto più la forza viene la forza l'impegno viene ridistribuito e sia anche meno quel senso di di solitudine di silenzio intorno questo questo è ma sì insomma sostanzialmente questo super riassunto spero di essere stata chiara ho fatto un po' un coppia in colla di quello che avevo preparato e di cose carpite durante l'intervento precedente però questo direi di sì ti do il mio parere personale per quello che conta ma direi assolutamente chiara e convincente bene grazie mille grazie ovviamente alla prossima allora adesso secondo la scaletta è il turno di Umberto Colombo segretario della Camera del Lavoro di Como gli do la parola senz'altro grazie ciao e buonasera a tutti io non posso che cominciare il mio intervento ricordando Belacti Madil sindacalista che è stato ucciso l'altro giorno proprio perché anche Pierluigi nell'introduzione a questo incontro parlava di frantumazione di spinta corporativa quindi non solo una condanna naturalmente a quanto a quanto è successo ma ci deve essere anche una risposta democratica anche agli interrogativi che ci dobbiamo porre non solo c'è una frantumazione e delle spinte corporative ecco io Pierluigi non mi ritrovo tanto nella questione guerra dei poveri secondo me la cosa è più profonda è evoluta nel senso che questa questo dramma questo omicidio perché è stato un omicidio è arrivato dopo altri episodi dopo altri episodi dopo un'altra morte dopo dei feriti dopo degli episodi su cui sta indagando la magistratura cioè il fatto che si come sembra in alcuni casi addirittura aziende che si rivolgono a quelle che chiamano bodyguard servizi di sicurezza ma poi che sono stati dei picchiatori che hanno picchiato i lavoratori in sciopero c'è secondo me è una cosa che dobbiamo guardare con attenzione si vuole combattere la presa di coscienza la consapevolezza che ci sono dei diritti fondamentali da difendere il diritto al lavoro ma anche il diritto davvero un lavoro pagato equamente dignitosamente quindi un lavoro dignitoso e che non sia sempre precario eh io non entro neanche in in quelle logiche che hanno visto in queste ore discutere ehm Cobas sindacati confederali ecco non ci entro neanche eh mi pare grave che eh siccome nella nella logistica nei trasporti c'è una presa eh forse eh non ci aspettavamo neanche questa cosa no una una consapevolezza eh di chi è nell'ultimo livello no nel nel rispetto dei diritti e del lavoro ma che decide di mettersi insieme quindi ritorna alla solidarietà al fatto appunto come si diceva che non si può uscire da una situazione negativa da soli e e decide eh di fare una lotta per i propri diritti e dei 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 propri colleghi di lavoro e proprio perché questa lotta si sta estendendo succedono le cose che sono che sono successe mi viene sono passati vent'anni mi viene in mente Genova il G8 di Genova c'è stata una presa di coscienza prima di luglio in quei mesi migliaia vent'anni fa insomma c'erano anche molte giovani generazioni che prendevano coscienza che non si erano mai messe insieme quel famoso discorso la rete di cui si parlava mondi molto diversi la sinistra radicale con il mondo cattolico eh il sindacato confederale con con appunto il sindacato di base eh giovani e persone anziane ambientalisti e poi sappiamo che cosa è successo ecco io partirei un po un po da lì perché forse dobbiamo eh rispondere anche a alle domande che faceva Pierluigi anche eh ragionando sul fatto che questa necessità è ancora più forte allora sui temi che poneva Pierluigi vado velocemente sul resto per festare nei tempi eh noi il ventisei di giugno manifestiamo a Torino quindi avremo tre manifestazioni nazionali e sabato prossimo andremo a Torino per quali ragioni per molti dei punti che che sono stati elencati ehm lo si accennava per la prima volta dopo anni eh abbiamo l'Europa che dice eh non continuiamo nelle logiche dell'austerità quella della riduzione della compressione dei costi che poi hanno portato alla compressione dei diritti ma andiamo verso eh una transizione che sia una transizione nel rispetto dell'ambiente una transizione di innovazione eh nel lavoro e nella coesione sociale e allora come mai il ventisei andiamo a Torino a manifestare perché il governo italiano nonostante questa premessa e nonostante le premesse che lo stesso governo aveva fatto per esempio alle parti sociali in particolare le organizzazioni sindacali sta andando in un'altra direzione e vedo di spiegarmi velocemente per ragioni per ragioni di sintesi eh la pandemia lo avete detto non sto non sto a riprenderlo parliamo di Como io sono segretario generale della CGL di Como quindi parlo del territorio eh il territorio è stato uno dei dei più industrializzati prestigiosi ci sono eh realtà produttiva ancora ancora prestigiose ma è uno dei più colpiti della pandemia quindi la grande Lombardia dove tutto doveva funzionare in sanità eh la grande provincia di Como siamo state una delle 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 province più colpite la lettura che viene data dal governo e anche da regione Lombardia e che responsabilità non ce ne sono eh tutto va bene e si continui sulla privazione della sanità e già questo basterebbe appunto per manifestare e rimetterci insieme eh sulla questione di come uscire dalla dalla crisi della pandemia con una ripresa di cui tutti parlano ma che non sarà a interruttore schiaccio l'interruttore e c'è la ripresa noi temiamo che soprattutto in alcuni settori quelli più deboli e quelli più colpiti e quelli più deboli nel senso quelli più precari per esempio eh il turismo dove molti sono le lavoratrici e lavoratori precari il tessile che è un settore invece più industrializzato naturalmente più forte a Como ma è colpito è stato colpito in maniera molto forte ecco anziché il governo da una parte visto che ci sono risorse eh in in grande quantità ma anche a livello locale anziché pensare appunto a come gestire il rilancio ponendo fine alla precarietà dando più qualità al lavoro cercando di fare un'inclusione vera nel nel mondo del lavoro c'è una smagna di licenziare quindi sembra che tutto si gioca sul fatto di essere liberi di poter licenziare quindi noi partiamo da questo perché anche a Como diciamo no noi dobbiamo batterci non tanto per una questione di data perché siamo sappiamo benissimo che poi ci sarà una data cioè il blocco dei licenziamenti non potrà essere infinito però noi oggi nel paese ma anche a Como non abbiamo una riforma degli ammortizzatori sociali che per esempio eh lo dico appunto anche a Paolo Igalli che lo che lo diceva molto chiaramente non mette tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori nelle stesse condizioni quando manca il lavoro quando c'è una crisi come la pandemia oppure una crisi una crisi economica ci sono alcune lavoratrici e lavoratori che fortunatamente grazie alle lotte sindacali queste cose e alle leggi queste cose le hanno altri lavoratori che continuano a non averlo quindi non può essere esserci un governo ma anche a livello locale istituzioni che non si pongano questo problema quindi noi stiamo dicendo in maniera molto forte lo faremo con con questa manifestazione si arrivi al più presto ad una riforma degli ammortizzatori sociali traduco che dia queste tutele a tutte le lavoratrici e i lavoratori indipendentemente dal contratto che gli viene applicato l'altra cosa sono le politiche attive del lavoro ma come fa non esistono a como non si stanno riorganizzando i centri per l'impiego ma non ci sono state risorse hanno ridotto anche lì il personale per assurdo chi doveva aiutare gli altri a trovare lavoro è stato a sua volta eh eh discriminato quindi bisogna eh velocemente avere risorse adeguate per poter permettere questa cosa nel pubblico non far fallire pubblico anche lì anche nelle questioni di lavoro puoi andare solo sulle agenzie private non ci spaventano però sostanzialmente il confronto anche con le agenzie private ma 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 lo Stato deve dare delle risposte sia a chi il lavoro lo perde sia alle giovani generazioni che non riescono a entrare con un contratto dignitoso nel nel mondo nel mondo del lavoro c'è stata la questione degli appalti il governo che dice inclusione sociale stava sostanzialmente modificando dopo che Confindustria alza la voce eh la questione degli appalti per farci tornare indietro di anni quindi non per dare le risposte alle cose che diceva Paoli Galli o che si dicevano prima che eh dicevano eh appunto anche gli interventi che mi hanno preceduto ma in una situazione in una direzione completamente diversa la sicurezza sul lavoro la prevenzione come mai appena riparte appena ripartono le produzioni appena riparte un po' l'economia esplodono gli infortuni mortali gli infortuni sul lavoro perché si ritorna indietro di anni si ritorna a pensare che se se le aziende devono fare dei risparmi per poter stare nel mercato devono ridurre gli interventi per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori è una cosa inaccettabile ripeto che ha delle responsabilità di governo ma ha delle responsabilità anche qua in regione Lombardia e in provincia di Como ehm vado ci sarebbe da parlare per tanto tempo ma eh su questo argomento la chiudo qua e poi avremo modo ehm lo diceva Pierluigi nell'introduzione lo ha detto molto chiaramente Fabio Cani mi è piaciuto molto questo ehm questo pezzo del suo intervento affermazione dei diritti per alcuni come si diceva lavoratrici e lavoratori precari diritti che sono ancora da conquistare e non a caso la CGL ha raccolto milioni di firme per la carta dei diritti universali del lavoro ma diceva Fabio Cani molto bene eh probabilmente meglio di quanto lo dica io diritti che ci sono già diritti costituzionali diritti di leggi dello Stato italiano che non vengono rispettati e il problema che diciamo da tempo come CGL è che questo modo di pensare è anche nostro cioè sul fatto per esempio che il lavoro il lavoro dignitoso non sia più un diritto ma ci sia come come diceva eh Paui eh una lotta una una competizione tra tra i lavoratori quella famosa fila no se non accetto io c'è la fila di lavoratrici e lavoratori che sarebbero disponibili eh eh ad accettare e ecco noi dobbiamo scardinare questo questo meccanismo veramente non solo fare rete ma cercare di fare cultura sulla cultura dei diritti la cosa incredibile eh noi stiamo in questi giorni eh festeggiando i centovent'anni della Camera del Lavoro e ci sono molte cose che ci fanno felici no confrontando la nascita della Camera del Lavoro e e la e la situazione attuale ci sono delle cose che ci preoccupano anche perché alcune lotte che venivano fatte centovant'anni fa quando è nata la Camera del Lavoro a Como prima ancora della CGL che è nata nel 1906 la Camera del Lavoro di Como è nata nel 1901 come altre Camere del Lavoro poi hanno dato vita alla CGL nel 1906 le lotte del 69 l'autunno caldo che hanno portato nel 70 la conquista dello statuto dei lavoratori il fatto che tutte quelle conquiste ora ci sono lavoratrici e lavoratori che devono ripartire da capo che non possono appunto essere lasciati eh lasciati da sole quindi eh il mondo del lavoro è un mondo del lavoro frantumato come lo era appunto nel 1901 quando è nata la Camera del Lavoro a Como c'erano delle società di mutuo soccorso che eh hanno aderito hanno hanno sono confluite in federazioni di categoria eh lavora le categorie del mondo del lavoro che poi hanno dato la Camera del Lavoro hanno dato vita alla Camera del Lavoro a Como perché c'era una una eccessiva frantumazione non solo perché c'era una sede come adesso una Camera del Lavoro dove la casa delle lavoratrici e dei lavoratori ma perché c'era una battaglia ideale comune eh nel lavoro eh nei diritti sociali nei diritti civili che è stata fatta ecco noi penso dobbiamo riprendere da questo però ehm so vedo anche delle cose non dico con ottimismo ma insomma che che mi dicono che forse dobbiamo insistere eh lo diceva Bawi Galli a Como quindi non da un'altra parte a Como e le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo e si sono riuniti in questo collettivo di Atranti e Uniti di Como TUC hanno avuto un incontro con la CGL si sono incontrate con la CGL in particolare con il sindacato dei lavoratori e dello spettacolo SLC la categoria che segue le lavoratrici e i lavoratori perché hanno bisogno avete bisogno anche di conoscere quali sono i propri diritti noi abbiamo anche NIDI in un'altra categoria per i lavoratori di precari cosa voglio dire ecco bisogna che queste prese di coscienza che eh insomma dopo dopo tanto tempo cominciano ad esserci eh si mettano in gioco per poter costruire veramente una un'alternativa eh alla ripeto ci sarebbero molte altre cose da dire ma vedo di arrivare velocemente alla fine al al quesito che alla domanda che poneva Pierluigi all'inizio cioè se ognuno di noi è d'accordo con il fatto di di avere un confronto ma anche un una costruzione di una rete e un confronto periodico stagionale mensile ecco io dico eh assolutamente però anche qua non moltiplichiamo le reti cioè nel senso cerchiamo di di far tesoro di una cultura eh della solidarietà della convivenza civile della tolleranza eh anziché dell'intolleranza dei diritti del lavoro civili e sociali mettiamoli insieme perché magari ci sono dei mondi eh naturalmente sto parlando per quanto riguarda la politica nell'ambito del centro-sinistra per quanto riguarda i valori che dicevo a chi li condivide naturalmente no eh mi spiego bene per non essere frainteso eh ma facciamolo veramente questo questo lavoro perché probabilmente c'è anche una como alternativa diversa che forse ha bisogno più di 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 avere visibilità e e di costruire consenso soprattutto con le giovani generazioni grazie per l'attenzione eh grazie a Umberto se non ricordo male dovremmo avere adesso il turno di Giulia Ceciliani che è un esponente se possiamo dire così dell'associazione ambientalista soprattutto ervese che ha il nome evocativo di teste di rapa esatto esatto ci spostiamo più nella parte erbese quindi dal comasco verso erba noi siamo un'associazione ambientale ci chiamiamo teste di rapa e eh diciamo non abbiamo una storia come tutti gli interventi che mi hanno preceduto siamo un'associazione molto giovane nata da qualche anno e con appunto questo gruppo di amici abbiamo deciso di eh portare avanti questa le tematiche diciamo questa riflessione sulle tematiche soprattutto ambientali che nella zona erbese ma come in tutta Italia eh diciamo hanno pochi esponenti che facciano soprattutto riflettere su quali siano le emergenze ambientali e le riflessioni che ne arrivano eh noi collaboriamo molto con il circolo ambientali alpi sicuramente lo conoscerete quindi eh diciamo portiamo avanti delle delle campagne diverse campagne in base alla al periodo alla agli eventi che succedono adesso l'ultima che stiamo portando avanti è contro il consumo di suolo nella zona erbese e diciamo abbiamo proprio l'obiettivo attraverso queste campagne di eh eh diciamo sensibilizzare soprattutto la comunità di erba riguardo quali sono i principali problemi ambientali che eh diciamo negli ultimi anni soprattutto nell'ultimo anno si sente molto parlare di rivoluzione verde degli investimenti green quando in realtà poi nella nella realtà nella quotidianità eh queste cose mancano ehm quindi altro obiettivo che ci siamo dati anche la sensibilizzazione dei più piccoli facciamo dei progetti di educazione ambientale nelle scuole con eh uscite sul territorio per la conoscenza proprio anche della realtà in cui si vive e ed è molto difficile trovare supporto diciamo da alcune amministrazioni alcune molto disponibili la maggior parte però diciamo hanno comunque un punto nonostante sia l'ambito ambiente proprio quello su cui si dice che bisogna puntare ehm è molto faticoso lavorarci sia diciamo in maniera lavorativa proprio remunerativa sia a livello di volontariato quindi diciamo l'obiettivo che ci siamo dati è questo e sicuramente è una bella opportunità questo questo intervento per conoscere anche realtà perché noi collaboriamo sia con associazioni diciamo sempre ambientali ma anche di altra natura quindi eh collaborazioni tra enti tra associazioni e movimenti comunque eh per la presa dei diritti in qualsiasi tipo di diritto che sia il diritto alla natura all'ambiente o qualsiasi altra tipologia è comunque un un valore aggiunto a tutto a tutti i nostri le nostre diligenze a quello che ci proponiamo quindi niente vi ringrazio e speriamo di vederci presto Senz'altro eh grazie Giulia eh l'intervento sintetico ma preciso adesso stiamo grazie alle doti di sintesi di Giulia eh di Giulia stiamo tornando quasi nei tempi previsti eh è il turno di Daniele Moioli che è uno studente liceale eh mi sentite? Ho avuto la parola sì io ti sento vai Mi sento? Ok eh buongiorno a tutti eh sono Daniele Moioli eh sono faccio parte dei giovani comunisti di Como e eh frequento appunto il Carlo Porta eh di Erba dunque eh essendo studente inizio effettivamente a parlare eh più che alto di una tematica riguardante riguardante la scuola poi eh mi diciamo che il discorso si amplierà molto in te o mai a fare un discorso coerente comunque eh dunque eh volevo iniziare eh parlando eh non tanto dei metodi che vengono utilizzati a scuola ma eh di di un problema che influisce molto sulle metodologie eh didattiche ovvero l'inadeguatezza delle nostre strutture scolastiche è stato calcolato che l'età media dei fabbricati è all'incirca di cinquantadue anni eh e risultano in molti casi inadeguati sia dal punto di vista della sicurezza che della eh sostenibilità ambientale eh è stato calcolato che su quarantamila edifici scolastici all'incirca eh due edifici su tre sono stati costruiti prima del 1976 e eh più di tremila di questi quarantamila hanno gravi problemi strutturali come eh la compromissione delle strutture portanti verticali eh o eh la compromissione delle coperture eh questi problemi ovviamente eh influiscono notevolmente eh sulla metodologia impedendo lo sviluppo di metodi innovativi diversi dalla classica lezione frontale che eh diciamo che è il metodo più usato nelle scuole italiane eh inoltre l'inadeguatezza delle infrastrutture scolastiche fa sì che sia difficile eh dividere eh le classi equamente secondo un criterio logico in cui si tenga conto anche dell'efficacia didattica quindi si tende a eh raggruppare il più possibile gli studenti in una classe perché eh non c'è disponibilità di queste ultime eh di conseguenza si creano eh le classi eh pollaio eh con recovery plan il tema diciamo che è tornato d'attualità e in più circostanze il governo si è eh cioè ha sottolineato il fatto che parte delle risorse del piano sarà eh possibile con parte delle risorse del piano sarà possibile eh affrontare il problema eh per la verità nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri non c'è traccia di finanziamenti dedicati al eh alla risoluzione del problema delle classi con laio. Io credo detto sinceramente che solo quando le infrastrutture scolastiche verranno rinnovate e solo quando verrà eh creata effettivamente una comunità educante a qui centro sta proprio l'edificio scolastico nel senso che eh attraverso la creazione proprio di percorsi stradali adibiti eh solo per gli studenti oppure alla creazione di un servizio di trasporto solo per gli studenti quindi eh facendosi che tutta la comunità giri intorno al eh alla scuola eh solo a quel punto si potrà iniziare a parlare di metodologie didattiche eh da attuare all'interno della scuola tuttavia per il rinnovamento è stato calcolato che per rinnovare eh le strutture scolastiche eh servono all'incirca duecento miliardi sì eh perché ovviamente ehm ormai da dieci anni a questa parte i governi continuano a fare tagli sui servizi e sui servizi pubblici e in particolare ovviamente eh per quanto riguarda la scuola eh diciamo i tagli maggiori sono stati effettuati dall'attuale ministra degli appari regionali e dall'allora ministra dell'istruzione Maria Stella Germini che con la sua cura dimagrante fece risparmiare molti otto miliardi di euro distruggendo così di per sé la pubblica istruzione ehm diciamo che questa strategia mh dei neoliberisti che governano il nostro paese consiste o meglio che consiste appunto nel eh definanziamento del pubblico questa strategia è stata già descritta sicuramente meglio di me da Chomsky in pratica prima si tolgono i finanziamenti al pubblico poi si mette un'enorme attenzione mediatica utilizzando i giornali privati sui difetti eh del pubblico di conseguenza i privati si si propongono come unica alternativa ergo i capitali iniziano ad andare iniziano a spostarsi ergo iniziano a fare lobbying ergo si inizia a togliere sempre di più il finanziamento dal pubblico creando così un circolo vizioso e eh questa appunto è la strategia principale eh utilizzata che caratterizza il nostro sistema politico eh io credo detto sinceramente che fin quando al governo ci saranno degli ordo liberali perché questo è eh che per quanto possono fare promesse eh di potenziamento del sistema pubblico è si continuerà a definanziarlo in quanto per favorire i privati e le multinazionali d'altronde si rispondono alla logica secondo qui la privatizzazione favorisce la circolazione economica e permette una migliore efficacia nei servizi il ponte morandi nell'esempio efficacia nei servizi eh il eh definanziamento dell'istruzione pubblica e l'aumento delle tasse universitarie di conseguenza non fanno altro che favorire i profitti dei privati da un l'altro e aumentare le disuguaglianze dall'altro nel senso che ehm se effettivamente si pensa bene eh un popolo scarsamente istruito e un popolo con poco senso critico è più manneabile e eh effettivamente mh la loro strategia sta funzionando perché ormai siamo perfettamente inseriti nella logica consumistica e capitalistica diamo sempre più peso alla forma e non alla sostanza e ci sentiamo liberi quando eh decidiamo di iniziare una serie nella top ten di Netflix eh senza capire che in realtà gran parte dei nostri gusti sono eterodiretti dalle tendenze di consumo di una società eh dunque io credo che in un momento come questo in cui il per sé il capitalismo è nella sua massima espansione e in cui esso mostra la sua faccia la sua vera faccia di muta forma che dalle briciole dei propri profitti ai lavoratori per assoggettare a sé quest'ultimi in questo momento credo che eh sia necessaria eh l'azione di un del partito eh ovviamente eh nel mio caso di rifondazione che debba ehm che deve fare deve fare che eh abbia come principale obiettivo il risveglio della coscienza di classe eh nel senso che eh sì effettivamente mh ormai c'è questa idea che le classi descritte da Marx non ehm c'è un non siano non ci siano più nel senso che sono si sono moltiplicate ma in realtà a parer mio eh le due classi sono sempre le stesse ovvero gli sfruttatori e gli sfruttati il capitalista e la classe proletaria che poi queste si siano effettivamente modificate eh eh si siano eh diciamo che eh si siano ridimensionate eh sì è vero però alla fine sono sempre le stesse eh quindi io credo che effettivamente sia necessaria l'azione del partito che attraverso un'azione di opposizione che effettivamente quella che stiamo facendo e un'azione di promozione di progetti sociali mirati alla creazione di una società più inclusiva quindi progetti per aiutare i più bisognosi eh in pratica attraverso eh in pratica il partito deve riprendersi il ruolo storico che ha sempre avuto e che adesso è stato che adesso è stato occupato da i fascistoni di casa pound che utilizzano una dialettica di sinistra eh per avvicinare le masse ma alla fine fascisti sono eh appunto il partito deve eh riprendere il ruolo che ha perso nella difesa degli oppersi così che poi possa effettivamente guidare le masse perché io credo detto sinceramente che in in questa sarà un po' estremista ma in questo momento eh il socialismo rappresenti l'unica soluzione in quanto si crea una società orizzontale e eh quindi mh partendo da questa società orizzontale si potrà effettivamente lavorare su determinati problemi anche di tipo culturale eh per poi effettivamente elevarsi a mh uno stato sociale eh di benessere collettivo che è caratterizzato da un benessere eh generale mh e niente sono stato no eh sì c'è eh niente ho finito Daniele ci hai colto di sorpresa hai fatto un finale da Free Jets con tac una sospensione al volo comunque eh hai mantenuto le promesse nel senso che eh davvero dal banco alla galassia eh con una coerenza che mi sembra davvero eh importante sottolineare grazie ancora per il tuo prezioso intervento Daniele eh dunque se non sbaglio nella scaletta avevamo a questo punto lo chiedo a Martina di metterlo in onda l'intervento di Giuliana Riccio un insegnante che appartiene all'esperienza di priorità alla scuola a Como che ci ha lasciato un un suo intervento eh Martina riesce a metterlo in onda? Perfetto eccola qua Buon poveriggio a tutti innanzitutto ecco ringrazio Pierluigi per avermi invitata a questo vostro incontro benché in realtà io non lo so mi sento un po' un pesce fuor d'acqua in realtà non sono non sono nessuno per essere qui sono solo un insegnante una madre una cittadina preoccupata per la scuola. Da un anno e mezzo è vero seguo più o meno direttamente il movimento priorità alla scuola che ho cercato di attivare anche su Como ma con scarsi risultati. È un gruppo quello di priorità alla scuola per chi non lo conoscesse che tra le altre cose si interroga da inizio pandemia sul ruolo che effettivamente la nostra classe dirigente vuol dare alla scuola. Ecco in questi mesi ne abbiamo sentite di ogni no? Dalle rime buccale, banchi con le rotelle, mentre la ministra osciente considerava la scuola l'ambiente più sicuro dal punto di vista della diffusione dei contagi a coronavirus, quell'altro entrante chiudeva dalla sera alla mattina senza alcun preavviso le scuole di ogni ordine e grado lasciando poi di fatto aperte le altre attività commerciali, no? La scuola non era considerata, non è considerata un bene essenziale. La salute biopsicosociale dei nostri alunni e delle nostre alunne strettamente connessa alla frequenza scolastica non è stata minimamente presa in considerazione. Così la DAD da cerotto del tutto inevitabile lo scorso anno è diventata una pezza malconcia con la quale cercare di coprire il disinteresse politico nei confronti della scuola. Mentre là in alto si giocava color 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 che color noi popolazione scolastica vedevamo ridotto il nostro mondo ad un monitor, i nostri ragazzi ad icone silenziate o da silenziare. Il corpo docente diventava una voce disorientata, materializzata e spesso bulimica di voti e di contenuti con cui riempire il vuoto lasciato dall'assenza dei corpi. Il calendario scolastico del tutto indifferente alla frantumazione delle certezze psicologiche dopo questi due anni di tira e molla pandemici è stato il solo a non subire mutazioni sostanziali. Noi insegnanti abbiamo proseguito in maniera granitica a valutare, scrutinare, suddividere il tempo scuola in primo e secondo quadrimestre senza che dall'alto nessuno si interrogasse sul senso delle nostre richieste, in un momento in cui i nostri quindicenni, le nostre quindicenni vedevano la loro vita confinata dentro le pareti di una stanza di pochi metri quadrati. Abbiamo visto tutti la fragilità della scuola, di questa istituzione massacrata da anni, ridotta all'osso sia in termini pedagogici che in termini di sicurezza. Ebbene, dopo tutto questo, dopo due anni di proclami politici, di sentenze mai del tutto condivise, di errori grossolani, l'unica evidenza che registro è che mia figlia inizierà la scuola primaria il prossimo settembre in una classe di 30 bambini. 30 bambini. E ci parlano ancora di distanziamento, di mascherine otto ore al giorno, di orari scaglionati, di vaccinare in massa gli adolescenti come sole soluzioni possibili. Sì, certo, sole soluzioni per scrollarsi di dosso la responsabilità di un vero cambiamento. 30 bambini e il nostro istituto non ha avuto l'ok da parte dell'USR per la formazione di due prime. E credo che questa situazione sia un po' lo specchio di quello che sta avvenendo ovunque, no? E alla domanda su cosa fare delle classi pollaio, il nostro ministro, adesso vi leggo, ha risposto in maniera del tutto simillina, forse potete invitarmi voi a decifrare il suo messaggio. Dobbiamo ripensare il modello classe, dice. Il modello classe va superato, i gruppi classe devono essere riconsiderati, abbiamo problemi di numerosità, soprattutto alle scuole superiori delle grandi città. C'è oggi un'idea di scuola novecentesca, tutti in classe per età allineati, ma questo concetto fa parte della scuola vecchia. Ecco, cosa abbia voluto dire con questa frase? Mi ignoto. Ripensare a classi senza divisioni anagrafiche cosa significa? Non lo so, torniamo magari al libro cuore, alla scuola italiana postunitaria dove si stava tutti insieme appassionatamente, sei anni con dodicenni. E poi non riesco a capire in che modo, diciamo, l'eterogenetana grafica possa in qualche modo snellire, in termini numerici, le classi. Non lo so. In questo stesso intervento il ministro ha altri si è dichiarato che a settembre la scuola sarà in presenza mai robustita dalla DAD. Perché quello che, secondo il ministro, ci ha insegnato il tempo pandemico è l'importanza della DAD, la forza della DAD. Il tempo pandemico non ci ha insegnato che la scuola va curata, non ci ha insegnato che le classi vanno ridimensionate, i precari assunti, le scuole ripensate in termini di spazio e tempo. Non ci ha insegnato che il nostro sistema valutativo fa acqua da tutte le parti, che massacra e non forma i nostri studenti e le nostre studentesse. No. Per il nostro ministro la lezione appresa è che bisogna svecchiare la scuola, superare la divisione anagrafica degli studenti, implementare le possibilità offerte dalla didattica a distanza e, perché no, promuovere a pieno titolo anche le invalsi. Tant'è che, mentre per la frequenza scolastica i nostri ragazzi erano pericolosi veicoli di contagio, per sostenere le prove invalsi, potevano magicamente trasformarsi, non lo so, in una categoria virus rinfrangente e tornare ad occupare i banchi. Vabbè, per il nostro ministro è infine chicca tra le chicche indispensabile introdurre, così come ha fatto, il curriculum dello studente, no? Quasi a ricordarci che la scuola non serve tanto a formare i cittadini, ma a immettere sul mercato del lavoro le persone. Il triste episodio di alternanza scuola-lavoro del ragazzino ridotto male dovrebbe far rifletterci un po' su queste cose. Vabbè, siamo al capitalismo scolastico, mi viene da dire. Nessuna parola è stata spesa per promuovere l'aumento degli organici, nessuna parola è in grado di rassicurarci sul fatto che no, non siamo più disposti a sacrificare i nostri studenti e le nostre studentesse, che il prossimo settembre la scuola sarà aperta per tutti e sarà una scuola sicura e in grado di accogliere le fragilità di questi cittadini, i nostri studenti e le nostre studentesse, i cui bisogni sono stati cancellati per due lunghi anni, dimenticati a distanza, microfono spento, game over. Ecco, la scuola del futuro riparta da qui, da questa consapevolezza qui. Abbiamo perso la partita più importante finora giocata, non siamo disposti a perdere ancora. Grazie a tutti. Ringraziamo anche se a distanza Giuliana per il suo intervento che, come al solito per lei, ha toccato degli aspetti davvero interessanti con un'impostazione sempre originale e accattivante, davvero. Grazie ancora, l'avevo già sentito, l'avevo già ringraziata, ma mi piace farlo anche pubblicamente. Dopo Giuliana era previsto l'intervento di Ernesto Ronchi, che ci sta seguendo da un'autostazione in un punto imprecisato della pianura padana. Mi sa che è tra... sarà in Veneto, boh, a occhio. Ciao Gigi, mi senti? Sì, io ti sento. Ok, bene, allora mi sono fermato, anzi mi scuso con tutti, qualora ci fossero problemi di collegamento, ma visto l'argomento terzo settore, cooperative e il mio lavoro educatore, sono andato appunto con un gruppo di ragazze a Trieste per promuovere un progetto di inclusione sociale, a cui tra l'altro fa... di cui fa parte tra l'altro Daniele Moioli e siccome eravamo d'accordo con Gigi ho detto no, riuscirò a intervenire sulla strada del ritorno, trovo un luogo e mi fermo. Spero quindi che la connessione rega che possiate sentire la mia voce per qualche minuto. Allora, io praticamente sono... mi sono laureato in sociologia nel 2003 e da lì ho iniziato a lavorare come educatore per una cooperativa sociale e faccio parte di questo mondo ormai da 17 anni. Quindi sono 17 anni che lavoro per delle cooperative e lavoro quindi con delle persone o le categorie un po' più fragili della società, quindi ragazzi con disabilità, minori e marginati, toccando tutti i vari problemi, dal disagio sociale, cobertà culturale. Che dire, io da sempre ho creduto e credo e continuo a credere nel sistema cooperativo, nonostante ancora ben prima della pandemia ci fossero stati dei segnali che... non buoni segnali, nel senso che i diritti sia dal punto di vista per i lavoratori e magari a volte della qualità dei servizi sono sempre stati minacciati dal fatto che gli enti pubblici, comunque i comuni, hanno sempre tagliato, sono stati sempre tagliati, tagliati fondi per il sociale, fatto gare in molte situazioni, gare a ribasso, quindi dove è vero si parte... una cooperativa sociale per vincere dei servizi deve solitamente proporre dei progetti tecnici di qualità, magari mettendo gente di esperienza o professionisti qualificati, poi però alla fine magari, anzi purtroppo spesso, fortunatamente non in tutte le amministrazioni, capita che poi succede che la parte economica è quella che poi fa vincere una cooperativa rispetto a un'altra che magari aveva un progetto migliore. Questa cosa purtroppo comporta... comporta il fatto che magari i servizi verso queste frange della popolazione non sono adeguati e gli stessi lavoratori in cui metto dentro vedono un po' lesi i propri diritti quindi noi cooperative sociali un po' vivendoci da tantissimi anni siamo sempre un po' border nel senso che come diceva Gigi all'inizio e come ho sentito anche negli altri interventi è una guerra tra poveri dove molte volte per riuscire ad andare avanti a fare dei progetti quindi bisogna non solo essere creativi progettisti, andare ben oltre magari le proprie abilità o la propria professionalità dedicare molto tempo molto spesso non retribuito per cercare di portare a casa il pane portare a casa il pane il pane sia per la cooperativa che per lo stesso lavoratore negli anni purtroppo alcune cooperative sono quindi andate in crisi economica e noi soci lavoratori quindi una cooperativa solitamente si diventa soci e quindi abbiamo tutti lo stesso diritto di voto o quant'altro comunque dobbiamo insieme decidere la guida e quindi la linea progettuale o futura cooperativa siamo stati sempre chiamati in causa a cercare una soluzione per risolvere problemi di natura economica qual è il problema? che molte volte la soluzione dei problemi è stata quella di attuare dei piani di crisi che praticamente hanno fatto sì che i lavoratori non avessero dovessero rinunciare ai diritti quali la tredicesima espestività una tantum previste e la pandemia cosa ha fatto? ha fatto che purtroppo peggiorà la situazione nel senso che se da un lato magari c'erano delle situazioni in realtà che si stavano riprendendo questa questa cosa che è successa e che ci vede ancora all'interno ha dato un po' un'ammazzata l'ammazzata quindi cosa fa cosa fa un lavoratore un educatore una cooperativa cosa si è cercato di fare in questo periodo per cercare di di continuare comunque a lavorare a resistere si cerca di creare nuovi progetti cercare magari di aprirsi anche al privato sociale ma anche qui è sempre una guerra in quanto altro ci sono dei servizi in cui io parlo come educatore soprattutto una cosa che sta succedendo negli ultimi anni che riguarda le stati quindi il tempo libero dei bambini dei ragazzi dove se una volta erano vabbè anni e anni fa gli oratori che poi avevano delegato un po' le cooperative con gli educatori e i comuni organizzati i centri estivi e quindi garantivano il lavoro agli operatori del sociale adesso ci sono una serie di associazioni sportive privati che organizzano tutta una serie di camp di centri estivi dove va bene non metto adesso non sto qui a discutere l'utilità magari di andare a fare un camp per una pseudo società professionistica a 600 euro a settimana a un ragazzino o altre cose potrei entrare nel merito ma questo non è l'aspetto che voglio toccare il problema è che facendo queste cose capita che magari le cooperative che gestiscono i centri estivi poi non riescono ad arrivare ad avere dei numeri per poter organizzare e garantire il lavoro ai propri associati sono contento che in un paio di situazioni adesso nella pandemia un paio di cooperative ci si è come lavoratori un po' risvegliati e non si è subito solo o accettato il paradigma il dogma di Dio va bene noi lavoriamo con le persone fragili se noi quindi non ci mettiamo di traverso perché se noi dovessimo scioperare o dire non ci siamo le persone che fine fanno questi servizi a chi vanno in mano quindi perché molto spesso noi stessi ci Ernesto si pronto abbiamo perso gli ultimi trenta secondi quando stai parlando del problema del diritto di sciopero e in che mani vanno vai ok molto spesso capita che noi educatori non aderiamo non abbiamo aderito a giornate di sciopero per il semplice fatto che diciamo siamo già noi gli unici magari che difendono i diritti dei nostri ragazzi o delle persone fragili qualora dovessimo mancare noi chi si occupa di loro solo che siamo arrivati con alcune organizzazioni a un punto tale che non si poteva rimanere dritti accettare ancora un po' perché ci si crede o un po' subendo alcune decisioni e quindi in un paio di situazioni come operatori come educatori abbiamo fatto gruppo in un caso ci si è affidati alla CGL per evitare comunque di accettare un piano che era sanguinoso per gli operatori in quanto si chiedeva una ricapitalizzazione un po' forzata ai soci lavoratori fortunatamente mettendosi insieme e anche qui facendo rete col sindacato poi quella quel tentativo che io non voglio mettere sia stato fatto in mala fede assolutamente era un tentativo per la galla non è andato a buon fine e quindi fortunatamente anche le dirigenze hanno preso un'altra strada io posso dire questo da uno che ci lavora da 17 anni nel sociale non so quale sarà il futuro io mi auguro sia un futuro migliore anche se temo che la strada è dura e forse bisogna fare veramente rete tra tutti enti del terzo settore associazioni di volontariato sindacati comunque per garantire servizi di qualità ai nostri giovani i bambini una scuola migliore servizi tempo extrascolastico sportivo più di qualità e quindi non lasciato in mano solo i privati ma allo stesso tempo che garantisca oltre che per loro per i ragazzi e per i giovani servizi di qualità ma anche salvaguardi un po' i lavoratori i lavoratori del terzo settore perché altrimenti temo che sarà dura sarà dura a resistere e continuare a poter lavorare bene e soprattutto c'è il rischio che poi un operatore che ci crede io appunto ho 17 anni che sono dentro e ci credo e anche oggi sono venuto di mio cioè due giorni dopo aver finito di lavorare il 5 del venerdì non mi metto sono uno che fa il suo e basta però ho preso un gruppo di giovani ho detto ciao vado perché ci credo ancora sto provando a formare dei ragazzi per entrare nel settore ma è ovvio che loro vedono un po' qual è la fatica o quali sono le condizioni e temo che se non se non si cambia un po' registro se non si riconoscono le ore lavorate o quello che si fa i giovani poi vengono disincentivati da certi studi o da continuare questo tipo di lavoro quindi magari rischiamo di diventare un parcheggio per qualche anno e dopo mancherà la forza lavoro che può garantire la qualità e un servizio per chi ne ha bisogno grazie grazie Ernesto tutto sommato il collegamento ha funzionato va bene allora avevamo a questo punto l'intervento di Rossana Vitani per Come Accoglie che abbiamo saputo l'inizio della diretta sostituita in questo caso da Daniela Guarnotta sempre di Come Accoglie prego grazie audio io non avevo l'audio acceso ok adesso sì sì ciao a tutti allora sicuramente un po' difficile iniziare per primi ma come dire altrettanto difficile parlare adesso dopo che avete detto praticamente tutto e tutti e di tutto nel senso che sono stati toccati svariati settori e di conseguenza come dire non mi ripeto non mi ripeto perché intanto perché ho sentito parlare di cose estremamente interessanti ma che purtroppo di cui sento parlare purtroppo da tanto tempo senza che sia cambiato molto da quando ne sento parlare essendo io stata una lavoratrice prima che una pensionata e prima che una volontaria di Come Accoglie quindi inizio col dire che sono stata una lavoratrice del settore pubblico sono stata delegata sindacale della CGL per 30 anni quindi di tutto quello che abbiamo di tutto quello che ho sentito in queste due ore nulla mi ha meravigliato molto mi ha amareggiato perché purtroppo alcune delle questioni che sono state toccate sono le stesse di cui sentivo parlare quando presi la tessera quando decisi di iscrivermi alla CGL arrivando da Milano e dove la sinistra Milano in quegli anni era stranamente rappresentata dalla CISLE parlo della fine degli anni settanta primi anni ottanta detto questo appunto adesso io mi 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 resetto mi resetto e divento volontaria di Come Accoglie allora Come Accoglie fa parte della rete per la grave marginalità fa parte di Como Senza Frontiere io sono una volontaria di di nuova leva anche se soltanto lo direbbe però appunto non è non sono molti anni che sono andata in pensione inizialmente ho fatto del volontariato all'interno del mio sindacato che per anni è stata la mia grande famiglia ma lo è ancora adesso in parte e dopodiché ho iniziato avvicinarmi alla realtà della migra diciamo alla realtà del del settore diciamo di un settore in particolare che è quello dei migranti attraverso quella che penso tutti abbiamo attraversato l'esperienza all'interno della parrocchia di Rebbio a Como e e ho deciso di dedicarmi esclusivamente a questo tipo di attività di volontariato Como Accoglie appunto come dicevo prima è un'associazione di volontariato è all'interno della rete per la grave marginalità dove ci sono tantissime altre associazioni dove ci sono le istituzioni capofila questa nella nuova disegnazione c'è anche il comune di Como ed è nella rete del di Como senza frontiere io con Como senza frontiere personalmente non ho avuto ancora il piacere di avere degli incontri diciamo più ravvicinati però so che appunto c'è un lavoro di estrema c'è una collaborazione importante con loro cosa dire come come Accoglie nasce nel 2016 quando si chiudono le frontiere della Svizzera faccio un brevissimo riassunto e la stazione di Como si riempie improvvisamente di migranti da lì tutta una serie di persone anch'io allora però come cani sciolti io personalmente come cani sciolto in realtà tutti quelli che poi hanno dato vita all'associazione di Como Accoglie lo erano allora decidono di dare una mano una mano di esprimere la propria solidarietà a una situazione assolutamente come dire nuova per una città così silente silenziosa quella dell'uomo qualunque insomma come è stata a Como per tanti anni e da lì nasce appunto la necessità di strutturarsi in un'associazione come Como Accoglie senza grandi pretese proprio perché nasce da persone che senza grandi pretese vanno a distribuire coperte caffè e tè caldo la sera questi gruppi proprio gruppi grandi numeri di persone che si arrabattano lungo nella città per alla ricerca semplicemente di una tettoia di un posto dove stare di dove dormire eccetera insomma ecco da lì nascono tutta una serie di diciamo di associazioni tra cui la nostra brevemente mi hanno chiesto poi appunto col direttivo di Como Accoglie del quale faccio parte mi hanno chiesto di fare una piccolissimo accenno alla nostra attività che appunto inizia con un servizio quotidiano di distribuzione di coperte di deposito pagagli poi abbiamo prestato parecchio persone parecchi di noi hanno prestato la propria attività all'apertura dei dormitori legati al piano freddo come volontari per e poi abbiamo iniziato fare un'attività estremamente per me importante di collegamento con i migranti che rimanevano per strada e questo durante le 24 ore non interrompendo questo tipo di attività durante la pandemia che per me è stata una cosa veramente grande io stessa non l'ho di arroca abbiamo iniziato abbiamo continuato nonostante anche dopo la chiusura dei dormitori a fare questo tipo di attività grazie anche al fatto che siamo riusciti ad avere attraverso un accordo con il comune una sorta di deposito a como che ci ha permesso di come dire avere un luogo dove poter depositare il materiale più necessario per continuare la nostra attività quindi tante coperte tanto per capirci e non solo adesso anche tanto vestiario perché porta aperte di Caritas ci ha chiesto di fare un'attività con loro che noi da mesi stiamo facendo che è quella con Caritas con scusate con la parrocchia di Sant'Agata che è quella di distribuzione quattro volte al mese di kit di vestiario su richiesta dei migranti stessi quindi un discorso più mirato non una distribuzione a muzzo chiamiamola così ma una distribuzione più mirata sulla base di schede richieste dai migranti stessi che vanno a porta aperta a richiederlo quindi raccogliamo questo materiale lo smestiamo e poi diventa un momento di diciamo di incontro con i migranti dove abbiamo degli appuntamenti fissi e quali viene consegnato questo materiale inoltre diamo un altro qualsiasi altro tipo di sostegno queste persone abbiano bisogno che ci viene segnalato con degli affidi temporanei in alcuni delle nostre famiglie con degli accompagnamenti io domani mattina per esempio accompagno qualcuno a fare il vaccino insomma facciamo tutti questo tipo di attività per soprattutto per diciamo per coloro che sono in strada ma anche per coloro che sono dormitori perché non è detto che anche chi è nei dormitori non necessiti non necessiti di avere diciamo un minimo di di accoglienza o di aiuto ecco da parte nostra abbiamo ci siamo coordinati appunto con porta aperte con legami per distribuire anche dei buoni doccia e dei buoni lavanderia abbiamo aderito a un'iniziativa finanziata dalla fondazione Intesa San Paolo i cui fondi di 5.000 euro sono stati destinati a beni alimentari per la comunità che fa riferimento alla parrocchia di Rezio quindi a Don Gisto abbiamo partecipato al progetto formare per agire agire per formare finanziato dalla regione sempre Rombardia nell'ambito del bando per il volontariato e capofila del progetto che è Ascilo Nguanella all'interno scusate di questo progetto abbiamo deciso di finanziare un corso Asa sempre come come accoglie un corso Asa per un ragazzo della Guinea che abbiamo come dire individuato e che al momento però non ha ancora iniziato inizia da settembre nel frattempo sta lavorando con noi appunto per darci una mano su altri progetti di cui adesso vi parlerò che stiamo portando avanti abbiamo partecipato a Mese della Pace aderendo al cantiere Casa Comune e alla giornata dei diritti umani indetto dall'Istituto Terrani di Orgiate Comasco siamo anche soci volontari dell'impresa Miledù con cui abbiamo realizzato un corso per i muretti a secco e questa impresa è una cooperativa la cooperativa Miledù crea delle opportunità lavorative molto impegnata da questo punto di vista delle opportunità lavorative destinate solo ed esclusivamente ai ragazzi che hanno permesso di soggiorno regolari ma molto brevi naturalmente come sappiamo non è possibile avere altro abbiamo effettuato donazioni per i profondi bloccati nei Balcani una alla Carità Sanbrosiana e l'altra all'associazione ADL della rete rivolta ai Balcani poi vabbè alcuni volontari come ho detto prima si occupano di seguire i ragazzi nel loro percorso di apprendimento della lingua italiana io stessa lo sto facendo con un ragazzo ipovedente nigeriano e poi alcuni partecipano al percorso legale quindi aiutano questi ragazzi ad affrontare l'annoso problema del percorso legale nonché di quello sanitario e di quello lavorativo altri mi ospitano a casa propria portando avanti dei percorsi individuali e quello che voglio sottolineare è che come accoglie nella maggior parte dei casi questi ragazzi non li sceglie li pesca per strada secondo me questa cosa è quella che mi ha attirato di più dentro questa associazione cioè non come dire non c'è una scelta no non c'è un non c'è un requisito non c'è una selezione perché non esiste perché non perché questo è come dire questo è il risultato del capitalismo cioè la totale disuguaglianza che la pandemia ha tra l'altro come dire accentuato in tutti i settori dopodiché come dire noi confronto tantissime altre realtà ci possiamo considerare dei privilegiati anche se voglio dire ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto di privilegi ne abbiamo solo persi ma intendo dire che quando parliamo di quando parliamo di migranti parliamo della rotta balcanica dove la gente arriva con i piedi completamente congelati perché fanno giornate giornate intere senza scarpe nelle camminano senza scarpe nella neve e dove un uomo di 84 anni un ex professore universitario viene accusato di viene accusato di un reato pazzesco cioè di traffico di esseri umani solo ed esclusivamente questo avviene a Trieste avviene a Trieste un mese fa non dieci anni fa dove viene accusato di questo reato infamantissimo confezionato tra l'altro un reato che non può che essere confezionato solo ed esclusivamente per aver aiutato una famiglia che arrivava dalla ehm credo dal Pakistan noi abbiamo deciso di essere vicini a queste situazioni quindi come come accoglie abbiamo indetto intanto una un primo incontro online perché non si poteva fare altrimenti con ehm l'associazione ehm di Trieste appunto per capire meglio che cosa volesse dire questa intrusione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di chi mh sostanzialmente offre quest'opera di volontariato che può colpire tutti eh questa intrusione intendiamoci quello noi l'abbiamo chiamato reato di solidarietà eh quindi abbiamo pensato di voler approfondire con un incontro online cosa che abbiamo fatto dopodiché ci siamo alcuni di noi sono hanno partecipato alla loro prima manifestazione di due settimane fa a Trieste e io con altri due compagni siamo andate invece a un'altra manifestazione che eh affrontava questo tema cioè questo tipo di ehm eh attacco dell'autorità giudiziaria che sta avvenendo avanti eh questo l'abbiamo diciamo questo incontro è stato è avvenuto eh non è un caso in Val di Susa non è un caso per due motivi uno perché lo eh proponeva Bussoleno Film Festival e sappiamo bene che cosa vuol dire eh Bussoleno vuol dire Movimento Notave infatti era il Movimento Notave era uno dei promotori ehm l'altra cosa è che siamo vicino a Ulz che è un'altra zona di confine estremamente come dire eh estremamente nota no tra i gli addetti ai lavori ehm in particolare tra l'altro c'è un collegamento tra Trieste e Ulz estremamente importante perché da Trieste che è solo una zona di passaggio i migranti vengono inviati a Ulz dove invece esiste una casa parrocchiale con un paroco modello don giusto che li accoglie per settimane settimane ora mh non voglio ehm voglio solo dare l'ultima l'ultimo accenno all'ultimo diciamo al progetto più importante che io ritengo di crescita della nostra associazione che stiamo portando avanti adesso dopodiché chiudo con una chiosa ehm dicendo cioè con una chiosa che riguarda proprio quello che secondo me cioè quello che sarebbe il mio desiderata no perché poi parlare di mh cioè fare analisi politica su questo momento dopo tutta dopo tutti i vostri interventi mi sembra veramente troppo mh quindi non posso che esprimere un desiderata ehm però non voglio perdere questa occasione per pubblicizzare l'ultimo progetto che abbiamo in mente di portare avanti che ehm stiamo per perfezionare l'acquisto di una casa come associazione abbiamo trovato abbiamo avuto l'opportunità di acquistare una casa a comodo ad un prezzo estremamente per noi per noi fattibile e quindi abbiamo pensato che eh proprio come diceva prima Fabio le uno dei problemi uno dei dei problemi più eh più frequenti per i migranti quello di trovare una casa abbiamo pensato che questo fosse un per noi un grande momento di crescita un grande momento mh un grande una grande opportunità per portare avanti qualcosa che eh come dire no dia una risposta perché in questo momento abbiamo bisogno di dare delle risposte ehm quelle quelle cioè quelle risposte che dovrebbe dare qualcun altro ma che evidentemente non vengono date quindi non ci rimane che farlo noi nel nel nostro piccolo ora questo acquisto vorrebbe dire ehm vorrebbe dire eh accogliere nel nostro progetto quattro persone che arriverebbero da un percorso che non dalla strada non dalla strada ma da un percorso eh già effettuato presso altre comunità potrebbero essere la parrocchia di Rebbio potrebbero essere i con Boniani insomma altre comunità perché appunto noi non ci riteniamo così bravi da poter accogliere persone della strada perché abbiamo bisogno di avere alle spalle di poter inserire in questa casa delle persone che abbiano le spalle abbiano fatto un percorso con gente molto più brava di noi più brava nel senso anche più formata no dal punto di vista della comunicazione con i migranti e dell'accoglienza ecco questo progetto tra l'altro eh approfitto per dire che ehm ci sarà un open day mercoledì prossimo per chi volesse venire a visitare la casa che siamo gli sgoccioli stiamo per fare il rogito eh dalle diciotto trenta diciannove e trenta la casa si trova in via Bellinzona numero settantotto e saremmo felici se qualcuno di nuovo vuole venire vuole venire visitarla dopo di che magari ci va insieme a mangiare una pizza e si parla di questa nuova cosa che stiamo portando avanti allora perché chiudo perché non so quanto ho parlato non ho guardato l'ora comunque spero di non essere stata noiosa ehm chiudo dicendo che cosa ha il mio desiderata ma mio desiderata è banale percorsi umanitari non corridoi umanitari i corridoi umanitari li fa la comunità di Sant'Egidio e cara grazia che c'è a me non fa più schifo niente purché si diano delle risposte sto parlando a titolo personale eh non sto parlando a titolo di come accoglie non mi fa più schifo niente purché si diano delle risposte i corridoi umanitari vanno bene ma non sono sufficienti non solo non sono sufficienti voglio affermare l'anticostituzionalità e l'illegalità dell'attuale legge sull'emigrazione ma questo dipenderà da noi da quanto saremo in grado di far capire alla gente una serie di questioni noi in questo momento non siamo in grado di farlo capire ah se anche lo facessimo capire non siamo in mano a un governo che qualcuno ha votato ma un governo autoreferenziale per cui non cambierebbe assolutamente niente questo è il mio modesto punto di vista dopodiché quello che io il mio desiderata sarebbe quello appunto che non vengano più perpetrati gli assassini che vengono attualmente diciamo fatti attraverso i respingimenti attraverso gli annegamenti attraverso quelli che sono i reati più brutali che si possono fare nei confronti di persone che peraltro non smetteranno mai di venire da noi di tentare di avere qualcosa di meglio che non la guerra non avere l'acqua cioè voglio dire cosa volete che sia un due metri di filo spinato alla in Bosnia in Croazia per gente che voglio dire nasce sapendo che dopo due giorni potrebbe morire ecco allora ehm non voglio parlare della Libia l'avete già detto tutti lo sappiamo tutti cosa ha fatto cosa cosa sono i campi in Libia cioè è inutile dire questo sicuramente quello che eh credo sia nostro dovere finché ne avremo la forza sarà quello di affermare che dobbiamo abbattere le frontiere e batterci per la libera circolazione come con la politica non c'è un altro strumento però non chiedetemi con quale politica se quella dei partiti se quella dei non partiti non lo so più da quando ho iniziato a fare politica ed ero una ragazzina ad oggi ehm a momenti alterni le cose si sono come dire rivelate vincenti e non vincenti a secondo del momento in questo momento credo che dobbiamo solo dare delle risposte io non sono in grado però di fare nessuna analisi politica grazie ho finito grazie a te Daniela eh mi sembra un intervento tutt'altro che trascurabile anche perché certe domande valgono come cinquanta risposte ehm adesso la parola a Marco Rigamonti eh del circolo ampi territorio orbese di Monguzzo prego Marco buonasera a tutti allora inizio con condividere con voi quello che c'è stato eh sabato scorso alla Mara ovvero la terza edizione di Gramsci in Montagna eh perché dico questo perché eh ovviamente Gigi mi diceva diceva prima quando mi ha salutato eh che si doveva scusare con me e quindi Gigi pagherà pegno nel senso che l'anno prossimo tutte quelle faccine che vedo lì sopra eh dovranno essere presenti alla quarta edizione di di Gramsci in Montagna questo sarà il il tuo compito per per l'anno prossimo ora eh perché è stata bella iniziativa a parte la revocazione storica di di Gramsci che è passato sono le nostre montagne ehm è stata la prima la prima volta la prima uscita del gruppo parti giovani perché noi avevamo questo progetto all'interno della sezione per cercare di valorizzare i giovani e cercare di 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 tirarli dentro eh e e fare in modo che queste che questi giovani eh iniziano a farinarsi con con le con le associazioni come Lampi perché questo crediamo che sia utile per tutti eh dal da sindacato ai partiti e tutto quanto sono stati molto bravi eh Yuri, Jamila e Giulia perché veramente ci hanno messo la passione e questo mi ha reso molto fiero perché quando si vedono giovani eh prima avevamo sentito Daniele e altri eh con la passione questo ti ti rincuora per il futuro. Ora parliamo ampi chiaramente antifascismo inizio con per parlare di questa cosa inizio con Dongo. Perché parlo di Dongo? Perché credo che eh Dongo quest'anno ehm ha rappresentato e rappresenta un po' delle cose che stiamo dicendo. Ho sentito vari vari interventi e Gigi grazie perché oggi bella giornata di riflessione. Eh perché dico che ci sono tante tante cose che Dongo si riflettono? Perché arriviamo da una crisi pandemica e prima c'è stata la crisi la crisi dei eh quella del duemila e otto che ha che ha devastato i paesi, l'Europa e quant'altro. Quindi un varie crisi una dietro l'altra. Queste cose chiaramente non spostano il peso eh sulle cose che stavo dicendo prima Daniele ma li spostano purtroppo dalla parte destra del della politica perché queste cose scatenano le paure scatenano i nazionalismi e scatenano chiaramente tutte quelle cose che sono legate ai nazionalismi che in Italia hanno visto il proliferare del fascismo. Ora perché dico che Dongo è molto importante? Perché ci sono secondo me tre eh eh cose che riflettono queste cose che stavo dicendo prima. La prima sono le istituzioni. Eh abbiamo discusso, dibattuto durante la manifestazione perché danno i permessi a fare quella schifezza che fanno tutti gli anni a Dongo. Eh io chiedo a qualcuno di girare ad Umberto Colombo se non l'avesse ancora visto il video che è stato registrato e decifrato dai giovani nostri che che fanno vedere tra l'altro un un rappresentante delle forze dell'ordine che saluta eh col saluto romano quando la commemorazione dei dei gerarchi fascisti e quelle sono le istituzioni italiane che poi mi servono per fare un altro discorso. E la terza cosa è l'indifferenza. Perché l'indifferenza? Perché eh il camerata quando ci ha dato dei balordi, quei balordi andate a lavorare perché i lavoratori dell'antifascismo non gliene frega assolutamente un cazzo. Traduco quello cioè traduco dico quello che ha detto eh questa personcina è lì che questi si infilano nell'indifferenza. Qui tante volte c'è oggi ho sentito molte volte parlare di indifferenza tra i lavoratori, tra eh quello che stava dicendo prima Daniela sui sui migranti, sulla scuola, quello che ha detto Daniele sulle scuole che stanno che stanno praticamente crollando in testa e sono crollate in testa agli studenti. Tutto questo fa parte del di un sistema che sta andando avanti in Italia che è come dice la segre è l'indifferenza. Basta che non tocchi a me e chi se ne frega se se tocca gli altri. Dentro qua c'è dentro eh molte cose che eh eh i fascisti ci sguazzano perché ci sguazzano veramente di lì perché si passa a me ho fatto imparare nel sindacato che si passa dove c'è l'acqua bassa e questi stanno veramente passando dall'acqua bassa. Eh prima si stava parlando di politiche migratorie eh tanto per dirvi la sezione Ampi di Monguzzo nel duemilasedici se praticamente eh si è fatta tutta l'estate eh ad aiutare i migranti eh siamo anche noi nel in Como Senza Frontiere. Ora da da dal duemilasedici al duemilaventuno cos'è cambiato? Io nella mia azienda ho raccolto circa due quintali di roba e ho portato ad un giusto se dovesse andare domani mattina dai miei colleghi a dire ragazzi raccogliamo dei generi alimentari da portare a come accoglie perché dobbiamo sostenere i migranti che stanno scappando dal dai loro paesi perché non c'hanno niente da mangiare probabilmente questi mi mandano a stendere e e dovrò far me la da solo la spesa da portare a queste persone. Questo per per darvi l'idea di quanto penetra l'indifferenza e la facilità di ascolto e la l'apologia che c'è dietro queste cose. Ora come sezione dove siamo impegnati perché adesso parto dal largo per entrare un po' in quello che succede nel territorio erbese. C'è stato dei dei momenti in cui siamo intervenuti come ampi e le e le battaglie le abbiamo portate a casa. A Monguzzo c'è stata un'esposizione di una di una bandiera di salò in una in una casa privata ci siamo mossi e le fondazioni ci ha dato una mano l'osservatore democratico delle destre abbiamo alzato il polverone e questa cosa è stata tolta. Il sindaco ha detto che lui era una brava persona perché non ha mai dato fastidio e sti cazzi aveva la bandiera di salò messa nel giardino di casa e come se qualcuno in Germania esponesse la croce uncinata voglio vedere cosa cosa succede a questa persona. L'altra cosa che abbiamo tamponato come ampi e ci siamo riusciti è stata all'intitolazione della via di una via all'ex alex al podestà di erba ai roldi e anche lì abbiamo montato una panna mostruosa tutti i presenti o circa 300 persone da quanti è comune a cantare bella ciao e questa cosa se la sono ingoiata. L'altra cosa che sarà difficilissima da ingoiare e qua c'è dentro tutto quello che ho detto prima sarà la via Ibrahima lì a Monguzzo. Monguzzo, paese di 2500 anime, perché deve diventare un caso da smuovere la politica? Perché dietro a questa intitolazione della via Ibrahima lì c'è una, a parte che sono volate denunce non so chi ha visto sulla provincia il presidente provinciale dell'Ampi che è stato denunciato da queste persone istituzioni perché sono carabinieri in congedo, che hanno intentato questa denuncia penale nei confronti di Cuglielmo Vernizi e Matteo Domignoni sia per le lettere che si sono scambiati tra Comune e questa associazione di carabinieri in congedo e Matteo e la nostra, e Matteo c'entra perché noi a Buzzo per informare le persone facciamo una bellissima serata spiegando cosa è stato il colonialismo in Italia e scusate in quel periodo e sono scappate delle frasi normali perché quando hanno intitolato questa via a questo combattente eritreo che difendeva secondo il generale dei carabinieri in congedo, ripeto, i confini italiani in Etiopia è morto, gli ha dato la medaglia d'argento, noi l'abbiamo definita una pagliacciata e questo ha comportato, aprite bene le orecchie, una denuncia penale nei confronti di, ripeto, Guglielmo Vernizi e Matteo Domignoni che si è risolta nel migliore dei modi perché entrambe le volte chi è stato chiamato a giudicare questa cosa, la prima soprattutto ha definito che questa persona che ha denunciato Guglielmo non è titolato a parlare per l'Associazione Nazionale Carabinieri. Ora, ripeto, perché deve diventare un caso? Perché dietro a questa cosa non ci sono solamente i carabinieri in congedo, mi sono fatto dare dagli assessori, scusate dai consiglieri di minoranza, tutto il mallopo relativo a questa via e ho visto purtroppo che sono state inviate delle mail a sostegno della decisione del comune di Monguzzo, titolare, ripeto, una via a un collaborazionista che poi ha fatto parte del regio esercito dei carabinieri e gli è stata pure data la ne dargli all'argento, ma questa persona qui ammazzava i suoi, cioè voglio dire è stato pagato per andare a fare del male alla sua gente e noi ce lo siamo ritrovati come esempio di onestà politica o sociale, perché solitamente le vie si intitolano a quelle e dicevo abbiamo visto che ci sono state varie mail da parte di associazioni, una su tutte, associazione del corno d'Africa che tra l'altro fa parte anche qualcuno del PD che non faccio nomi e fa parte anche adesso dell'attuale presidente del COPASIR o quello che si chiama dei segreti, quindi d'urso di alleanza, ex ingegneri e hanno scritto dicendo che Rigamonti, Marco Emilio non capisce un cazzo perché quella roba lì serve per integrare le persone, secondo il mio punto di vista quella roba lì le divide le persone e secondo il punto di vista di noi dell'Anti, perché le sta dividendo le persone, perché non si può intitolare una via a uno che ha fatto cose del genere, soprattutto spacciandola per Italia quella roba lì e soprattutto ricordandoci che il colonialismo italiano ha fatto dei disastri, non ha portato le strade, i ponti e gli ospedali in quei territori, perché tutti fanno quelle cose perché devono sfruttare quello che c'è. Ora, cosa abbiamo messo in campo per rispondere a questa cosa? Settimana scorsa abbiamo fatto una riunione proprio con quelli di Monguzzo per capire un po', perché se dovevamo montare la panna e dovevamo fare diventare questa roba una roba nazionale, è chiaro che la gente di Monguzzo deve capire, quindi i filoni saranno tre. Uno, chiamiamolo amministrativo legale, nel senso che abbiamo bisogno delle carte per capire se possiamo intervenire a livello legale contro il comune, ma non credo, e soprattutto quella roba sarebbe controproducente perché si andrebbe a scatenare avvocati, costi e quant'altro e resterebbe proprio in ambito legale, quindi la gente non verrebbe coinvolta. La seconda cosa è la linea politica e quindi faremo di tutto e quindi siete tutti invitati a darci una mano. E la terza cosa, che è la più importante, è l'informazione e la formazione dei monguzzesi, perché voi l'avete detto più di una volta, che senza cultura, senza il capire cosa è stato quella roba lì, è chiaro che la gente risponderà sempre, ma chi se ne frega, nel nostro paese ci sono altre cose da fare. Come l'abbiamo sentito molte volte quando si parlano soprattutto di questi argomenti, ma chi se ne frega dell'antifascismo, quante volte l'ha detto Salvini, io non sono un fascista, chi se ne frega dell'antifascismo, gli italiani vogliono altre cose. Cerchiamo di capire da che parte stiamo andando, tra un po' ci saranno le elezioni, questi filofascisti arrivano quasi al 50% della popolazione italiana, quindi se non vediamo il pericolo qui dentro, ragazzi, cari compagni, qui veramente io ho paura e temo per... qualcuno prima stava parlando di Costituzione, come sapete l'Ampi cerca in tutti i modi di tenere insieme questa Costituzione, ma è chiaro che se dovesse dilagare questa destra sarà veramente difficile tenere insieme questi pezzi e dovremmo veramente lottare, ma lottare veramente. Un'altra cosa che chiedo a tutti è cercare di far capire veramente cos'è stato quel periodo. Facciamo formazione ai Gigi anche tra di noi sull'antifascismo, su quello soprattutto che è stato il fascismo e cerchiamo di far capire ai giovani quali sono queste le prevaricazioni che hanno portato questa idea ad avere in quegli anni l'assoluta maggioranza nel Paese, quindi ripeto, queste cose sono ancora assolutamente attuali e le abbiamo viste a Dongo. L'ultima cosa che dico su Dongo poi la faccio finita, è questa. quest'anno abbiamo dato un'ottima risposta, però non è finita lì. Ok andare a dire che le istituzioni non lo devono fare, però ripeto, la nostra campagna partendo da quello che è stato fatto da rifondazione, ovvero andare a mettere le cartoline dentro nelle buche delle lettere dei donghiesi e far capire veramente cosa vuol dire, quella roba lì che non è una vergogna per quei luoghi e per la memoria italiana, è veramente fare un salto culturale che ci porti fuori da questa roba, perché è la paura che scatena il fascismo e il fascismo è paura, paura di tutto, paura di quelli diversi, paura dei migranti, paura di perdere il posto di lavoro e scatenare tutte queste lotte intestine tra tra di noi, quindi la faccio finita qui e aiutiamoci. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie anche a te Marco. Era previsto l'intervento di Giovanna Tamburello dell'Associazione Italia Cuba, ma deve esserci stato un problema tecnico, un fraintendimento, fatto sta che l'intervento di Giovanna non ci sarà. Come previsto dalla scaletta, a questo punto avrei dovuto tirare le conclusioni di questo pomeriggio. Lo faccio in realtà in modo molto sintetico, nel senso che la prima cosa che dico è, come si dice, mi faccio i complimenti, faccio i complimenti al mio partito per aver avuto questa idea, perché spero anche a voi, ma un confronto di questo genere, per la sua novità, ma anche per la sua ampiezza, ci ha sicuramente fatto bene, spero che la cosa sia avvertita anche da tutti i partecipanti e quindi facciamo tesoro di un'esperienza di questo genere e cerchiamo di riproporre su temi magari più specifici o comunque di riproporre di attivare in maniera abbastanza stabile e permanente un confronto periodico di questo genere. Le cose che dico, le dico soprattutto interpretando il ruolo politico che interpreto, nel senso che vi posso dire, al termine di questa riunione, l'avevo già detto in apertura, che come Rifondazione riteniamo assolutamente indispensabile per noi come forza politica questo lavoro di ascolto e di interlocuzione con soggetti, persone, esperienze che vivono e rappresentano bene i problemi, anche le speranze, le pratiche presenti all'interno del corpo sociale. Per noi è indispensabile questo tipo di conoscenza per cui garantiamo, per quello che può servire, spero vi serva, un ascolto permanente, una posizione di interessata, doppiamente interessata, disponibilità al confronto. Oltre alla disponibilità all'ascolto e al confronto garantiamo anche, anche qui nel limite delle nostre forze, ma non nel limite delle nostre intelligenze, nel senso che ce le mettiamo proprio tutte, siamo disposti a contribuire proprio perché questa sera, se ci avete fatto caso, sono state dette molte cose che riguardano il fare, il promuovere iniziative concrete, il praticare esperienze di vario tipo, le avete sentite come me. Ecco, la disponibilità all'esserci, all'offrire un contributo materiale, ma anche un contributo ideale, è un'altra delle conclusioni, diciamo così, delle promesse che io faccio in quanto segretario provinciale di Fondazione Comunista, tutte le persone che sono state, hanno partecipato al dibattito di stasera e ci hanno seguito nella diretta. Nel senso che mi sembra che in questo modo, vale a dire coltivando la vicinanza, coltivando le relazioni politiche, noi sicuramente come comunisti ne usciamo più, ne usciamo migliori e spero che la cosa appunto riguardi anche voi che oggi e riguardi anche tutti gli interlocutori che sceglieremo di interpellare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. La cosa mi sembra che possa in un certo senso chiudersi qui. Devo soltanto una precisazione piccolissima, Umberto, prima a proposito della mia definizione di guerra fra poveri, in realtà mi sono reso conto dopo che l'ho detto che poteva essere fraintesa relativamente all'episodio che è successo l'altro giorno che ha portato alla morte del sindacalista, una mia interpretazione di quei fatti in termini di guerra fra poveri. In realtà lì si può parlare di killeraggio o di sicari prezzolati, non tanto di guerra fra poveri. È stato chiarissimo per Luigi. Come? È stato chiarissimo per Luigi. Io l'ho richiamato solo per... Sì, no, perché in realtà la guerra fra poveri è una cosa che è venuta fuori in molti interventi, tutti gli interventi che hanno parlato di scuola e tutti gli interventi che hanno parlato di lavoro riguardava quell'aspetto particolare che ha oggi il conflitto fra lavoratori e datori di lavoro che spesso porta in tutti i settori, dal pubblico al privato, a quelle due o tre cose che sono davvero la fine, potrebbero segnare la fine di qualsiasi attività di rivendicazione, di miglioramento. Ti parlo da RSU, non c'è come il trovarsi ad avere conflitti interni ai tuoi colleghi di lavoro, conflitti che sono alimentati dalla scarsezza di risorse per appunto per farti, per trovarti fortemente in crisi, nel senso che quando tu sposti le vertenze da un piano collettivo a un piano individuale, lo sai meglio di me, come rappresentante non rappresenti più nessuno e quindi è questo il vero problema, per cui parlavo di guerra fra poveri in quel senso lì. Per cui io rinnovo, come si dice, la promessa, spero che qualcuno non la prenda come una minaccia, la promessa è quella di teniamoci in contatto, facciamo in modo che l'insieme delle esperienze che questa sera si sono confrontate restino in relazione fra di loro e da questo punto di vista contate sicuramente sull'interesse, sull'appoggio e anche in certi casi anche sull'esperienza che alcuni dei componenti di rifondazione comunista hanno manifestato, hanno scusate, accumulato su singoli aspetti perché, come si diceva in un manifesto di tanti anni fa, rifondazione comunista c'è, no? Significa che ci siamo idealmente, ci siamo con i nostri limiti ma anche con le nostre energie, per cui chiudendo mi sembra di fare un quadro, di dover fare un quadro positivo, un quadro positivo perché nella situazione tutt'altro che rosa che stiamo attraversando, come diceva prima anche Daniele Moioli, un primo passo deve essere quello della consapevolezza della situazione presente e del fatto che questa situazione necessiti di vie d'uscita che la contraddicano nel modo più rapido possibile. Ecco, questa consapevolezza è, so, pochissimo, ma è nel momento attuale la nostra più grossa risorsa e quindi da questo occorre partire, da questo occorre procedere per estendere appunto, non necessariamente in forma di indottrinamento, ma in forma di dialogo, di presa di coscienza, di confronto anche aspro, di estendere questi nostri ragionamenti alla maggior quantità possibile di persone. Ecco, quindi lo scopo vero e questo nuovo modo di fare politica deve passare necessariamente attraverso queste pratiche che ci sono imposte dalla situazione attuale. Per cui io ringrazio tutti a nome di Rifondazione Comunista e vi auguro una buona serata, spero che anche da voi la situazione in meteo si sia migliorata perché mezz'ora fa mi si sono spalancate le finestre, non so se vi siete accorti, ma sono dovuto correre finestre chiuse che si sono spalancate per una botta di uragano, va beh, anche di clima dovremmo parlare. Ciao a tutti e grazie. Grazie, ciao a tutti e a tutte. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.